Isaia, capitolo primo La visione di Isaia, figliuolo di Ammoz, che gli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzziah, di Jotan, di Akkad, e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Ai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti! Hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e ritratti indietro. A che pro colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del pie fino alla testa non v'è nulla di sano in esso. Non vi son che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state nettate né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato. Le vostre città sono consumate dal fuoco e i vostri campi li divorano gli stranieri sotto gli occhi vostri. Tutto è devastato, come per un sovvertimento di barbari. E la figliola di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Io son sazio d'olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli, dei capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi va chiesto di calcare i miei cortili? Cessate d'arrecare oblazioni vane. Il profumo io l'ho in abominio, e quanto ai novi luni, ai sabati, a convocare radunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri novi luni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diverranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diverranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Come mai la città fedele e ella diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia dimorava in lei ed ora è un ricetto d'assassini. Il tuo argento si è cangiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua, i tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano i regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno ragione all'orfano e la causa della vedova non viene davanti a loro. Perciò il Signore l'Eterno degli eserciti, il potente di Israele, dice, Ah, io avrò soddisfazione dei miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici, e ti rimetterò la mano addosso. Ti purgherò delle tue scorie come con la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente, e i tuoi consiglieri come erano al principio. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Sion sarà redenta mediante la rettitudine, e quelle che in lei si convertiranno saranno redenti mediante la giustizia. Ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme, e quelli che abbandonano l'Eterno saranno distrutti. Allora avrete vergogna dei tiribinti che avete amati, e arrossirete nei giardini che vi siete scelti, poiché sarete come un terebinto dalle foglie appassite, e come un giardino senza acqua. L'uomo forte sarà come stoppa, e l'opera sua come una favilla, ambedue bruceranno assieme, e non vi sarà chi spenga. Isaia capitolo secondo Parole che Isaia, figliuolo di Ammoz, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato al di sopra dei colli. E tutte le nazioni affluiranno adesso. Molti popoli vaccorreranno e diranno, Venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi delle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro, e delle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro un'altra, e non impareranno più la guerra. O casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce dell'Eterno, poiché Tu, O Eterno, hai abbandonato il Tuo popolo. La casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche orientali, praticano le arti occulte come i filistei, fanno alleanza coi figlioli degli stranieri. Il loro paese è pieno d'argento e d'oro, e hanno tesori senza fine. Il loro paese è pieno di cavalli, e hanno carri senza fine. Il loro paese è pieno d'idoli, e si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita han fatto. Perciò l'uomo del volgo è umiliato, e i grandi sono abbassati, e Tu non li perdoni. Entra nella roccia e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore dell'Eterno e allo splendore della Sua Maestà. Lo sguardo altero dell'uomo del volgo sarà abbassato, e l'orgoglio dei grandi sarà umiliato. L'Eterno solo sarà esaltato in quel giorno. Poiché l'Eterno degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza per abbassarlo, contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati, e contro tutte le querce di Basam, contro tutti i monti alti, e contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, e contro ogni muro fortificato, contro tutte le nave di Tarsis, e contro tutto ciò che piace allo sguardo. L'altericia dell'uomo del volgo sarà abbassata, e l'orgoglio dei grandi sarà umiliato. L'Eterno solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrassi al terrore dell'Eterno e allo splendore della Sua Maestà, quando Dei si eleverà per far tremare la terra. In quel giorno gli uomini perché qual caso se ne può fare? Isaia, capitolo terzo Ecco il Signore, l'Eterno degli eserciti, sta per togliere a Gerusalemme e a Giuda ogni risorsa ed ogni appoggio, ogni risorsa di pane ed ogni risorsa d'acqua. Il prode e il guerriero, il giudice ed il profeta, l'indovino e l'anziano, il capo di cinquantina, il notabile, il consigliere, l'artefice esperto e l'abile incantatore. Io darò loro dei giovinetti per principi ed i bambini domineranno sovressi. Il popolo sarà oppresso uomo da uomo, ciascuno dal suo prossimo. Il giovane insolentirà contro il vecchio, l'abbietto contro colui che è onorato. Quando l'uno prenderà il fratello nella sua casa paterna e gli dirà, Tu hai un mantello, sii nostro capo. Prendi queste ruine sotto la tua mano. Egli in quel giorno alzerà la voce dicendo, Io non sarò vostro medico, nella mia casa non ve né pane né mantello. Non mi fate capo del popolo, poiché Gerusalemme va a Scilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sii da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. L'aspetto del loro volto testimonia con tressi. Pubblicano il loro peccato come Sodoma e non lo nascondano. Guai all'anima loro. Perché procurano a se stessi del male. Ditelo, che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle opere sue. Guai all'empio. Male li incoglierà perché egli sarà reso quel che le sue mani han fatto. Il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggeranno. O popolo mio, quei che ti guidano si sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. L'Eterno si presenta per discutere la causa e sta in pie per giudicare i popoli. L'Eterno entra in giudizio con gli anziani del popolo e coi principi d'esso. Voi siete quelli che avete divorato la vigna. Le spoglie del povero sono nelle vostre case. Con qual diritto schiacciate voi il mio popolo e pestate la faccia dei miseri? Dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. L'Eterno dice ancora, poiché le figliuole di Sion sono altere, e son vane, col collo teso, lanciando sguardi provocanti e camminando a piccoli passi e facendo tintinnare gli anelli dei loro piedi. Il Signore renderà calvo il sommo del capo delle figliuole di Sion, e l'Eterno metterà nudo le loro vergogne. In quel giorno il Signore torrà via il lusso degli anelli dei piedi, delle reti e delle mezzelune, gli orecchini, i braccialetti e i veli, i diademi, le catenelle dei piedi, le cinture, i vasetti di profumo, gli amuleti, gli anelli, i cerchietti da naso, gli abiti da festa, le mantelline, gli scialli, le borse, gli specchi, le camicie finissime, le tiare e le mantiglie. Invece del profumo, s'avrà fetore, invece di cintura, una corda, invece di riccioli calvizie, invece d'ampio manto, un sacco stretto, o marchio di fuoco, invece di bellezza, i tuoi uomini cadranno di spada, e i tuoi prodi in battaglia, le porte di Sion gemeranno, e saranno in lutto, tutta desolata, e la sederà per terra. Isaia, capitolo quarto E in quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno, Noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, togli via il nostro opprobrio. In quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio e il loro ornamento. E avverrà che i superstiti di Sion e i rimasti di Gerusalemme saranno chiamati santi, Chiunque, cioè in Gerusalemme, sarà iscritto tra i vivi. Una volta che il Signore avrà allevato le brutture delle figliuole di Sion, e avrà nettato Gerusalemme dal sangue che è in mezzo a lei, col soffio della giustizia, col soffio dello sterminio. E l'Eterno creerà su tutta la distesa del monte di Sion e sulle sue radunanze una nuvola di fumo durante il giorno, e uno splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte, poiché su tutta questa gloria vi sarà un padiglione, e vi sarà una tenda per far ombra di giorno e proteggere dal caldo e per servir di rifugio ed asilo durante la tempesta e la pioggia. Isaia Capitolo Quinto Io vo' cantare per il mio benamato, il cantico dell'amico mio circa la sua vigna. Il mio benamato aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti di scelta, vi fabbricò in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio. Isa aspettava che essa li facesse dell'uva, e gli ha fatto invece delle lambrusche. Ordunque, o abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate fra voi, fra me e la mia vigna. Che più si sarebbe potuto fare della mia vigna di quello che io ho fatto per essa? Perché mentre io mi aspettavo che facesse dell'uva, a essa fatto delle lambrusche? Ebbene, ora io vi farò conoscere quel che sto per fare alla mia vigna. Ne torrò via la siepe e vi pascoleranno le bestie. Ne abbatterò il muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno i rovi e le spine e darò ordine alle nuvole che su lei non lasciano cadere pioggia. Or la vigna dell'eterno degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la piantagione che era la sua delizia e i sera spettato rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco grida d'angoscia. Guai a quelli che aggiungon casa a casa, che uniscono campo a campo finché non rimanga più spazio e voi restiate soli ad abitare in mezzo al paese. Questo m'ha detto all'orecchio l'eterno degli eserciti. In verità queste case numerose saranno desolate, queste case grandi e belle saranno private d'abitanti. Dieci gli ugeri di vigna non daranno che un bato e un omer di seme non darà che un efa. Guai a quelli che la mattina s'alzan di buon'ora per correre dietro alle bevande alcoliche e fan tardi la sera finché il vino li infiammi. La cetra, il saltero, il tamburello, il flauto ed il vino, ecco i loro conviti, ma non pongo mente a quel che fa l'Eterno e non considerano l'opera delle sue mani. Perciò il mio popolo se va in cattività per mancanza di conoscimento. La sua nobiltà muore di fame e le sue folle sono inarridite dalla sete. Perché il suo giorno dei morti si è aperto bramoso ed ha spalancato fuori di modo la gola e laggiù scende lo splendore di Sion, la sua folla, il suo chiasso e colui che in mezzo ad essa festeggia. E l'uomo del volgo è umiliato, i grandi sono abbassati e abbassati sono gli sguardi alteri, ma l'eterno degli eserciti esaltato mediante il giudizio e l'idio santo è santificato per la sua giustizia. Gli agnelli pastureranno come i loro pascoli e gli stranieri divoreranno i campi deserti dei ricchi. Guai a quelli che tirano l'iniquità con le corde del vizio e il peccato come con le corde ed un cocchio e dicono faccia presto affritti l'opera sua che noi la veggiamo. Venga e si eseguisca il disegno del santo di Israele che noi lo conosciamo. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bevere il vino e valorosi nel mescolare le bevande alcoliche che assolvono il malvagio per un regalo e privano il giusto del suo diritto. Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca così la loro radice sarà marciume e il loro fiore sarà portato via come polvere perché hanno rigettata la legge dell'eterno degli eserciti e hanno sprezzata la parola del santo di Israele. Per questo avvampa l'ira dell'eterno contro il suo popolo ed egli stende contro esso la sua mano e lo colpisce tremano i monti e i cadaveri sono come spazzatura in mezzo alle vie e con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa. egli alza un vestillo per le nazioni lontane fischia ad un popolo che è all'estremità della terra ed eccolo che arriva pronto leggero in esso nessuno è stanco o vacilla nessuno se ne chiò dorme a nessuno si scioglie la cintura dei fianchi o si rompe le gacce dei calzari le sue frecce sono acute tutti i suoi archi sono tesi gli zoccoli dei suoi cavalli paino pietre le ruote dei suoi carri un turbine il suo ruggito è come quello d'un leone rugge come leoncelli rugge afferra la preda la porta via al sicuro senza che alcuno gliela strappi in quel giorno e i mungirà contro giuda come muge il mare e a guardare il paese ecco tenebre angoscia e la luce che s'oscura nel suo cielo Isaia capitolo sesto nell'anno della morte di re Uzzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto molto elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio sopra di lui stavano dei serafini ognuno dei quali aveva sei ali con due si copriva la faccia con due si copriva i piedi e con due volava e l'uno gridava all'altro e diceva santo 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 è l'eterno degli eserciti tutta la terra è piena della sua gloria le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano e la casa fu ripiena di fumo allora io dissi ahi lasso me che io son perduto poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e gli occhi miei han veduto il re l'eterno degli eserciti ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare mi toccò con esso la bocca e disse ecco questo t'ha toccato le labbra la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato poi udì la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi allora io risposi eccomi mandami ed egli disse va e di a questo popolo ascoltate sì ma senza capire guardate sì ma senza discernere rendi insensibile il cuore di questo popolo rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi in guisa che non vega coi suoi occhi non oda coi suoi orecchi non intenda col cuore non si converta e non sia guarito e io dissi fino a quando Signore ed egli rispose finché le città saranno devastate e senza abitanti e non vi sia più alcuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione finché l'Eterno abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese e se vi rimane ancora un decimo della popolazione esso a sua volta sarà distrutto ma come il terebinto e alla querce quando sono battuti rimane il ceppo così rimarrà al popolo come un ceppo una progenie santa Isaia capitolo settimo ora venne ai giorni di Acas figliuolo di Jotam figliuolo di Uzzia re di Giuda che Rezzin re di Siria e Peca figliuolo di Remalia re di Israele salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra ma non riuscirono ad espugnarla e fu riferito alla casa di Davide questa notizia la Siria si è confederata con Efraim e il cuore di Acas e il cuore del suo popolo furono agitati come gli alberi della foresta sono agitati dal vento allora l'Eterno disse ad Isaia va incontro ad Acas tu con Shear giasciubi tuo figliuolo verso l'estremità dell'acquedotto dello stagno superiore sulla strada del campo del gualchieraio e digli guarda di startene calmo e tranquillo non temere e non ti savvelisca il cuore a motivo di quei due avanzi di tizioni fumanti a motivo dell'irardente di Rezzin e della Siria e del figliuolo di Remalia siccome la Siria Efraim e il figliuolo di Remalia meditano del male a tuo danno dicendo saliamo contro Giuda terrorizziamolo apriamovi una breccia e proclamiamo re in mezzo adesso il figliuolo di Tabeel così dice il Signore l'Eterno questo non avrà effetto non succederà poiché Damasco è il capo della Siria e Rezzin è il capo di Damasco fra 65 anni Efraim sarà affiaccato in guisa che non sarà più popolo e Samaria è il capo di Efraim e il figliuolo di Remalia è il capo di Samaria se voi non avete fede certo non potete sussistere l'Eterno parlò di nuovo ad Acas e gli disse chiedi un segno all'Eterno al tuo Dio chiedilo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi Acas rispose io non chiederò nulla non temerò l'Eterno e Isaia disse ora ascoltate o casa di Davide e gli è poca cosa per voi lo stancare gli uomini che volete stancare anche lì Dio mio perciò il Signore stesso vi darà un segno ecco la giovane concepirà partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele egli mangerà crema e miele finché sappia riprovare il male e scegliere il bene ma prima che il fanciullo sappia riprovare il male e scegliere il bene il paese del quale tu paventi due re sarà devastato l'Eterno farà venire su te sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre dei giorni come non sebbero mai dal giorno che Efraim si è separato da Giuda vale a dire il re d'Assidia e in quel giorno l'Eterno fischierà alle mosche che sono all'estremità dei fiumi d'Egitto e alle api che sono nel paese d'Assiria esse verranno e si poseranno tutte nelle valli deserte nelle fessure delle rocce su tutti gli spini e su tutti i pascoli in quel giorno il Signore con un rasoio preso a nolo di là dal fiume cioè col re da Siria arraderà la testa i peli delle gambe porterà via anche la barba in quel giorno avverrà che uno nutrirà una giovine vacca e due pecore ed esse daranno tale abbondanza di latte che egli mangerà della crema poiché crema e miele mangerà chiunque sarà rimasto su pestite in mezzo al paese in quel giorno ogni terreno contenente mille viti dal valore di mille sicli d'argento sarà abbandonato in bari dei rovi e dei pruni vi senterà con le frecce e con l'arco perché tutto il paese non sarà che rovi e pruni e tutti i colli che si dissodavano con la vanga non saranno più frequentati per timore dei rovi e dei pruni vi si lasceranno andare i buoi e le pecore ne calpesteranno il suolo Isaia capitolo ottavo l'Eterno mi disse prenditi una tavoletta grande e scrivici sopra in caratteri leggibili affrettate il saccheggio presto al bottino e presi meco come testimoni due testimoni fede degni il sacerdote Uria e Zaccaria figliuolo di Ieberechia ma costai pure alla profetessa ed ella concepie parto di un figliuolo allora l'Eterno mi disse chiamalo maere poiché prima che il bambino sappia gridare padre mio madre mia le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno portati davanti al re da Siria e l'Eterno mi parlò ancora e mi disse poiché questo popolo ha sprezzate le acque di Siloe che scorrono placidamente e si rallegra a motivo di Re Zin e del figliuolo di Re Malia perciò ecco il Signore sta per far salire su loro le potenti e grande acque del fiume cioè il re da Siria e tutta la sua gloria esso se leverà dappertutto sopra il suo livello e strariperà su tutte le sue sponde passerà sopra Giuda inonderà e passerà oltre e arriverà fino al collo e le sue ali spiegate copriranno tutta la larghezza del tuo paese o Emanuele mandate pur gridi di guerra o popoli sarete frantumati prestate orecchio voi tutti dei paesi lontani preparatevi pure alla lotta sarete frantumati fate pure dei piani e saranno sventati dite pur la parola e rimarrà senza effetto perché Dio è con noi poiché così m'ha parlato l'Eterno quando la sua mano m'ha afferrato ed egli m'ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo dicendo non chiamate con giura tutto ciò che questo popolo chiama con giura e non temete ciò che esso teme e non vi spaventate l'Eterno degli eserciti quello santificate sia lui quello che temete e paventate ed egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme molti fra loro inciamperanno cadranno saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi chiudi questa testimonianza suggella questa legge fra i miei discepoli io aspetto l'Eterno che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe in lui ripongo la mia speranza ecco me e i figliuoli che l'Eterno mi ha dati noi siamo dei segni e dei presagini Israele da parte dell'Eterno degli eserciti che abita sul monte di Sion se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini quelli che sussurrano e bisbigliano rispondete un popolo non deve egli consultare il suo Dio si rivolgerà egli ai morti a prode vivi alla legge alla testimonianza se il popolo non parla così non vi sarà per lui alcuna aurora andrà errando per il paese affranto e affamato quando avrà fame si irriterà maledirà il suo re e il suo Dio volgerà lo sguardo in alto e lo volgerà verso la terra ed ecco non vedrà che distretta tenebre oscurità piena d'angoscia e sarà sospinto infitta tenebria ma le tenebre non dureranno sempre per la terra che ora è nell'angoscia come nei tempi passati il Dio coprì proprio il paese di Zabulon e il paese di Nieftali così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare di là dal Giordano la Galilea dei gentili Isaia capitolo nono il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende tu moltiplichi il popolo tu gli largisci una gran gioia ed egli si rallegra nel tuo cospetto come uno si rallegra al tempo della messe come uno giubila quando si spartisce il bottino poiché il giogo che gravava su lui il bastone che gli percoteva il dosso la verga di chi lo primeva tu li spezzi come nel giorno di Madian poiché ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia ogni mantello avvoltolato nel sangue saranno dati alle fiamme saranno divorati dal fuoco poiché un fanciullo ci è nato un figliuolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente padre eterno principe della pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti il signore manda una parola a Giacobbe ed essa cade sopra Israele tutto il popolo ne avrà conoscenza Efraim e gli abitanti di Samaria che nel loro orgoglio e nella superbia del loro cuore dicono i mattoni sono caduti ma noi costruiremo con pietre squadrate i sicomori sono stati tagliati ma noi li sostituiremo con dei cedri per questo l'eterno farà sorgere contro il popolo gli avversari di Rezin ed ecciterà i suoi nemici i siri da oriente i filistei da occidente ed essi divoreranno Israele a bocca spalancata e con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa ma il popolo non torna a colui che lo colpisce e non cerca l'eterno degli eserciti perciò l'eterno riciderà Israele capo e coda palmizio e giunco in un medesimo giorno l'anziano e il notabile sono il capo e il profeta che insegna la menzogna e la coda quelli che guidano questo popolo lo sviano e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione perciò l'eterno non si compiacerà dei giovani del popolo né avrà compassione dei suoi orfani e delle sue vedove poiché tutti quanti sono empi e perversi ed ogni bocca proferisce follia e con tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa poiché la malvagità arde come il fuoco che divora rovi e pruni e di vampa nel folto della foresta dove se levino vorticosamente colonne di fumo per l'ira dell'eterno degli eserciti il paese è in fiamme e il popolo è in preda al fuoco nessuno risparmia il fratello si saccheggia a destra e si ha fame si divora a sinistra e non si è saziati ognuno divora la carne del proprio braccio manasse divora Efraim ed Efraim manasse e insieme piomban su Giuda e con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa Isaia capitolo decimo guai a quelli che fanno decreti iniqui e a quelli che ridigono in iscritto sentenze ingiuste per negare giustizia ai miseri e per spogliare del loro diritto i poveri del mio popolo per far delle vedove la loro prede e degli orfani il loro bottino e che farete il giorno che Dio vi visiterà nel giorno che la rovina verrà da lontano a chi fuggerete in cerca di soccorso e dove lascerete quel che è la vostra gloria non rimarrà loro che curvarsi fra prigionieri o cadere fra gli uccisi e con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa guai alla Siria verga della mia ira il bastone che ha in mano è lo strumento della mia indignazione io ho mandato contro una nazione empia gli ho dato contro il popolo del mio cruccio l'ordine di darsi al saccheggio di far bottino o di calpestarlo come il fango nelle strade ma egli non la intende così non così la pensa il cuor suo egli ha in cuore di distruggere di sterminare nazioni in gran numero poiché dice i miei principi non sono essi tanti re non è egli venuto di calno come di carchemisch di kamat come dar pad di samaria come di damasco come la mia mano è giunta a colpire i legni degli idoli dove le immagini erano più numerose che a gerusalemme e a samaria come ho fatto a samaria e i suoi idoli non farò io così a gerusalemme e alle sue statue ma quando il signore avrà compiuta tutta l'opera sua sul monte di sion ed a gerusalemme io dice l'eterno punirò il re da siria per il frutto della superbia del cuor suo e dell'arroganza e dei suoi sguardi alteri poiché gli dice io ho fatto per la forza della mia mano e per la mia sapienza perché sono intelligenti e ho rimosso i confini dei popoli e ho predato i loro tesori e potente come sono ho detronizzato dei re e la mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli e come uno raccoglie delle uova abbandonate così io raccolta tutta la terra e nessuno ha mosso l'ala o aperto il becco ho mandato un grido la scure si gloria essa contro colui che la maneggia la sega si magnifica essa contro colui che la mena come se la verga facesse muovere colui che l'alza come se il bastone alzasse colui che non è di legno perciò il signore l'eterno degli eserciti manderà la consunzione fra i suoi più robusti e sotto la sua gloria accenderà un fuoco come il fuoco ad un incendio la luce di Israele diventerà un fuoco e il suo santo una fiamma che arderà e divorerà i suoi rovi e i suoi pruni un sol giorno e la gloria della sua foresta e della sua verace campagna egli la consumerà anima e corpo sarà come il deferimento di un uomo che langue il resto degli alberi della sua foresta sarà così minimo che un bambino potrebbe farne il conto in quel giorno il residuo di Israele e gli scampati dalla casa di Giacobbe cesseranno da appoggiarsi su colui che li colpiva e si appoggeranno con sincerità sull'eterno sul santo di Israele un residuo il residuo di Giacobbe tornerà le Dio potente poiché quando anche il tuo popolo Israele fosse come l'arena del mare un residuo soltanto ne tornerà uno sterminio decretato che farà traboccare la giustizia poiché lo sterminio che ha decretato il Signore l'Eterno degli eserciti lo effettuerà in mezzo a tutta la terra così dunque dice il Signore l'Eterno degli eserciti o popolo mio che abiti in Sion non temere l'assiro benché ti batta di verga e alzi su te il bastone come fece l'Egitto ancora un breve brevissimo tempo e la mia indignazione sarà finita e l'Iramia si volgerà alla loro distruzione l'Eterno degli eserciti leverà contro di lui la frusta come quando colpi Madian alla roccia d'Oreb e come alzò il suo bastone sul mare così salzerà ancora come in Egitto e in quel giorno il suo carico ti cadrà dalle spalle il suo gioco di sul collo il gioco sarà scosso dalla tua forza rigogliosa la Siro marcia contro Ayat attraversa Migron depone sue bagaglie a Mikmash valicano il passo passano la notte a Geba Rama trema Ghibea di Saul è in fuga grida forte a tutta voce o figlia di Galim tendi l'orecchio o la Ish povera Anatoth Madmenat è in fuga precipitosa gli abitanti di Gebin cercano il rifugio oggi stesso sosterà a Nob agitando il pugno contro il monte della figlia di Sion contro la collina di Gerusalemme ecco il Signore l'Eterno degli eserciti stronca i rami in modo tremendo i più alti sono tagliati i più superbi sono atterrati egli abbatte col ferro il folto della foresta e il Libano cade sotto i colpi del potente Isaia capitolo undicesimo poi un ramo uscirà dal tronco di Sai e un rampollo spunterà dalle sue radici lo spirito dell'Eterno riposerà su lui spirito di sapienza e di intelligenza spirito di consiglio e di forza spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno respirerà come profumo il timore dell'Eterno non giudicherà dall'apparenza non darà sentenze stando al sentito dire ma giudicherà i poveri con giustizia e farà ragione con equità agli umili del paese colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio la giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto il vitello e il giovin leone il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà la vacca pascolerà con l'orsa i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue il lattante si trastulerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'eterno come il fondo del mare dell'acqua e che lo ricoprono e in quel giorno verso la radice di sai issata come vessillo dei popoli si volgeranno premurose le nazioni e il luogo del suo riposo sarà glorioso in quel giorno il signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in assiria e in egitto a patros e in etiopia a elam a shinear e a mate nelle isole del mare egli alzerà un vessillo verso le nazioni raccoglierà gli esuli di israele e radunerà i dispersi di giuda dai quattro canti della terra la gelosia ad ephraim scomparirà e gli avversari di giuda saranno annientati ephraim non invidierà più giuda e giuda non sarà più ostile ad ephraim essi piomberanno a volo sulle spalle dei filistei ad occidente insieme prenderanno i figliuoli dell'oriente e metteranno le mani addosso ad edon e a moab e i figliuoli di ammo saranno loro sudditi l'eterno metterà interamente a sacco la lingua del mar d'egitto scuoterà minesciosamente la mano sul fiume e col suo soffio impetuoso lo spartirà in sette canali e farà sì che lo si passi coi sandali e vi sarà una strada per il residuo del suo popolo rimasto in assiria come ve ne fu una per israele il giorno che uscì dal paese d'egitto isaia capitolo dodicesimo in quel giorno dirai io ti celebrerò eterno poiché dopo esserti adirato con me l'ira tua si è calmata e tu mai consolato ecco il dio è la mia salvezza io avrò fiducia e non avrò paura di nulla poiché l'eterno l'eterno è la mia forza e il mio cantico ed egli è stato la mia salvezza voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza e in quel giorno direte celebrate l'eterno invocate il suo nome fate conoscere le sue opere tra i popoli proclamate il suo nome eccelso salmeggiate l'eterno perché ha fatte cose magnifiche siano esse note a tutta la terra manda degridi degridi di gioia o abitatrice di siom poiché il santo di israele è grande in mezzo a te isaia capitolo tredicesimo oracolo contro babilonia rivelato ad isaia figliolo di amoz su di un nudo monte innalzate un vessillo chiamateli a gran voce fate segno con la mano ed entrino nelle porte dei principi io ho dato ordine a quelli che mi son consacrati ho chiamato i miei prodi ministri della mia ira quelli che esultano nella mia grandezza sode sui monti un rumore di gente come quello di un popolo immenso il rumore di un tumulto di regni di nazioni radunate l'eterno degli eserciti passa in rivista l'esercito che va a combattere vengono da lontan paese dall'estremità dei cieli l'eterno e gli strumenti della sua ira per distruggere tutta la terra urlate poiché il giorno dell'eterno è vicino esso viene come una devastazione dell'onipotente perciò tutte le mani diventano fiacche ed ogni cuore d'uomo viene meno sono colti da spavento sono presi da spasimi e da doglie si contorcono come donna che partorisce si guardano l'un l'altro sbigottiti le loro facce sono facce di fuoco ecco il giorno dell'eterno giunge giorno crudele d'indignazione dirardente che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce il sole soscurerà fino dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni renderò gli uomini più rari del loro fino più rari dell'oro dofir perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione dell'eterno degli eserciti nel giorno della sua ira ardente allora come gazzella inseguita o come pecora che nessuno raccoglie ognuno si volgerà verso il suo popolo ognuno fuggirà al proprio paese chiunque sarà trovato sarà trafitto chiunque sarà colto cadrà di spada i loro bimbi saranno schiacciati davanti ai loro occhi e le loro case saranno saccheggiate le loro mogli saranno violate ecco io suscito contro di loro i medi i quali non fanno alcun caso dell'argento e non prendono alcun piacere nell'oro i loro archi atterreranno i giovani ed essi non avranno pietà del frutto delle viscere l'occhio loro non risparmierà i bambini e Babilonia lo splendore dei regni la superba bellezza dei caldei sarà come Sodoma e Gamorra quando il Dio le sovertì essa non sarà più abitata ad età in età nessuno vi si stabilerà più l'arabo non vi pianterà più la sua tenda nei pastori vi faranno più riposare i loro greggi ma vi riposeranno le bestie del deserto e le sue case saranno piene di gufi vi faranno la loro dimora gli struzzi i satiri vi balleranno gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi i cani selvatici nelle sue ville deliziose il suo tempo sta per venire i suoi giorni non saranno prolungati Isaia capitolo quattordicesimo poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul suo suolo lo straniero si unirà ad essi e si stringerà alla casa di Giacobbe i popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo e la casa di Israele li possederà nel paese dell'Eterno come servi e come serve essi terranno in cattività quelli che le avevano ridotto in cattività e signoreggeranno sul loro oppressori il giorno che l'Eterno ti avrà dato requi dal tuo affanno dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato tu pronunzierai questo canto sul re di Babilonia e dirai come l'oppressore ha finito ha finito l'esattrice d'oro l'Eterno ha spezzato il bastone degli empi lo scettro dei despoti colui che furiosamente percoteva i popoli di colpi senza tregua colui che dominava irosamente sulle nazioni e inseguito senza misericordia tutta la terra in riposo è tranquilla la gente manda gridi di gioia perfino i cipressi e i cedri del Libano si rallegrano a motivo di te da che sei atterrato essi dicono il boscaiolo non sale più contro di noi il soggiorno dei morti laggiù si è commosso per te per venire ad incontrarti alla tua venuta esso sveglia per te le ombre tutti i principi della terra fa alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni tutti prendono la parola e ti dicono anche tu dunque sei diventato debole come noi anche tu sei dunque diventato simile a noi il tuo fasto e il suon dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti sotto di te sta un letto di vermi e i vermi sulla tua coperta come mai sei caduto dal cielo astro mattutino figliuolo dell'aurora come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni tu dicevi in cuor tuo io salirò in cielo eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di dio io massiderò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione salirò sulle sommità delle nubi sarò simile all'altissimo invece tan fatto di scendere nel soggiorno dei morti nelle profondità della fossa quei che ti vedano fissano in te lo sguardo ti considerano attentamente e dicono è questo l'uomo che faceva tremare la terra che scoteva i regni che riduceva il mondo in un deserto ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa sua i suoi prigionieri tutti re delle nazioni tutti quanti riposano in gloria a ciascuno nella propria dimora ma tu sei stato eccettato lungi dalla tua tomba come un rampollo abominevole coperto di uccisi tra fitti con la spada calati sotto i sassi della fossa come un cadavere calpestato tu non sarai riunito a loro nel sepolcro perché hai distrutto il tuo paese hai ucciso il tuo popolo della razza dei malfattori non si ragionerà mai più preparate il massacro dei suoi figli a motivo dell'iniquità dei loro padri che non si rialzino più a conquistare la terra e a riempire il mondo di città io mi leverò contro di loro dice l'eterno degli eserciti sterminerò di babilonia il nome e i superstiti la razza e la progenie dice l'eterno ne farò il dominio del porco spino un luogo di paludi la spazzerò con la scopa della distruzione dice l'eterno degli eserciti l'eterno degli eserciti ha giurato dicendo in verità come ho penso così sarà come ho deciso così avverrà frantumerò l'assiro nel mio paese lo calpesterò su miei monti allora il suo gioco sarà tolto di sovressi e il suo carico sarà tolto di sulle loro spalle questo è il piano deciso contro tutta la terra questa è la mano stessa contro tutte le nazioni l'eterno degli eserciti da fatto questo piano chi lo frusterà la sua mano è stesa chi gliela farà ritirare l'anno della morte di Acas fu pronunziato quest'oracolo non ti rallegrare o filistia tutta quanta perché la verga che ti colpiva è spezzata giacché dalla radice del serpente uscirà un basilisco e il suo frutto sarà un serpente ardente e volante i più poveri avranno di che pascersi e i bisognosi riposeranno al sicuro ma io morì di fame la tua radice e quel che rimarrà di te sarà ucciso urla o porta grida o città struggiti o filistia tutta quanta poiché dal nord viene un fumo e niente e niente si sbanda dalla sua schiera e che si risponderà ai messi di questa nazione che l'eterno ha fondata sion e che in essa gli afflitti del suo popolo trovano il rifugio isaia capitolo quindicesimo sì nella notte in cui è devastata ar moab perisce sì nella notte in cui è devastata kir moab perisce si sale al tempio e in dibon sugli alti luoghi che piangere moab urla sul nebo e sul medeba tutte le teste son rase tutte le barbe tagliate per le strade tutti indossano sacchi sui tetti e per le piazze ognuno urla piangendo a dirotto esbong ed eleat gridano la loro voce sode aggetat perciò i guerrieri di moab si lamentano l'anima loro trema il mio cuore geme per moab i cui fuggiaschi son già azoar e eglat shalisha perciò fanno piangendo la salita di luhit e mandan grida d'angoscia sulla valle di oranain perché le acque di nimrim sono una desolazione l'erba è seccata l'erba minuta è scomparsa non c'è più verdura onde le ricchezze che hanno accumulate le provisioni che han tenuto accumulate in serbo esse le trasportano oltre il torrente dei salici le grida fanno il giro dei confini di moab il suo urlo rintrona fino ad eglain il suo urlo rintrona fino a ber elin perché le acque di dimon sono piene di sangue perché infliggerò a dimon dei nuovi guai un leone contro gli scampati di moab e contro quel che resta del paese isaia capitolo sedicesimo mandate gli agnelli per il dominatore del paese mandateli da Sela per la via del deserto al monte della figliola di Sion come uccelli che fuggono con una nidiata dispersa così saranno le figliole di moab ai guadi dell'Arnon consigliaci fa giustizia in pien mezzodì stendi su noi l'ombra tua densa come la notte nascondi gli esuli non tradire i fuggiaschi lascia dimorare presso di te gli esuli di moab sii tu per loro un rifugio contro il devastatore poiché l'oppressione è finita la devastazione è cessata gli invasori sono scomparsi dal paese il trono è stabilito fermamente sulla clemenza e sul trono sta assiso fedelmente nella tenda di Davide un giudice amico del diritto è pronto a far giustizia noi conosciamo l'orgoglio di moab l'orgogliosissima la sua alterigia la sua superbia la sua arroganza il suo vantarsi senza fondamento perciò gema moab per moab tutti gemano rimpiangete costernati le schiacciate d'uva di Kir Hereseth poiché le campagne di Heshbon languono languano i vigneti di Simat le cui viti scelte che inebriavano i padroni delle nazioni arrivavano fino a Jazer arrivavano per il deserto ed eram ed avevano propaggini che si espandevano lontano e passavano il mare piango perciò come piange Jazer i vigneti di Simat io vi rigo delle mie lacrime o Heshbon o Eleath poiché sui vostri frutti d'estate e sulle vostre messe si è battuto un grido di guerra la gioia e il giubilo sono scomparsi dalla ferasce campagna e nelle vigne non ci sono più canti né grida d'allegrezza il vendemmiatore non pigia più l'uva nei tini io ho fatto cessare il grido di gioia della vendemmia perciò le mie viscere fremono per Moab come un'arpa e gemme il mio cuore per Kir eres e quando Moab si presenterà quando si affaticherà sull'alto luogo ed entrerà nel suo santuario a pregare essa nulla otterrà questa è la parola che l'Eterno già da lungo tempo pronunziò contro Moab ed ora l'Eterno parla e dice fra tre anni contati come quelli di un mercenario la gloria di Moab cadrà in disprezzo nonostante la sua grande moltitudine e ciò che ne resterà sarà poca pochissima cosa senza forza Isaia capitolo dicesettesimo oracolo contro Damasco ecco Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine le città da Oroer sono abbandonate sono lasciate alle mandre che vi si riposano e niuno le spaventa non vi sarà più fortezza in Ephraim né reame in Damasco e del residuo di Siria avverrà quel che è avvenuto della gloria dei figlioli di Israele dice l'Eterno degli eserciti in quel giorno la gloria di Giacobbe sarà menomata e la pinguetudine del suo corpo dimagrirà avverrà come quando il mietitore raccoglie il grano e col braccio falcia le spighe avverrà come quando si raccogono le spighe nella valle di Refrain vi rimarrà qualcosa da spigolare come quando si scuote l'olivo o restano due o tre olive nelle scime più alte quattro cinque nei rami più carichi dice l'Eterno l'Idio di Israele in quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo verso al suo creatore e i suoi occhi guarderanno al santo di Israele e non volgerà più lo sguardo verso gli altari opera delle sue mani e non guarderà più a quel che le sue dita hanno fatto agli idoli d'astarte e alle colonne solari in quel giorno le sue città forti saranno abbandonate come le foreste e le sommità dei monti furono abbandonate all'avvicinarsi dei figlioli di Israele sarà una desolazione perché hai dimenticato lì Dio della tua salvezza e non ti sei ricordato della rocca della tua forza tu ti sei fatto delle piantagioni piacevoli e hai piantato dei maglioli stranieri il giorno che li piantasti li circondasti in una siepe e ben presto facesti fiorire le tue piante ma la raccolta ti sfugge nel dì dell'angoscia del disperato dolore oh che rumore di popoli numerosi muggono come mugano i mari che tumulto di nazioni le nazioni tumultano come tumultano le grandi acque ma egli le minaccia ed esse fugga lontano cacciate come la pula dei monti dal vento come un turbine di polvere d'uragano alla sera ecco il torrente prima del mattino non son più ecco la parte di quei che ci spogliano ecco la sorte di chi ci saccheggia isaia capitolo diciottesimo oh paese dall'ali strepitanti d'oltre i fiumi d'etiopia che in via messi per mare in navicelle di papiro voganti a perdacqua andate o veloci messaggeri verso la nazione dell'alta statura e dalla pelle lucida verso il popolo temuto fin dalle regioni lontane nazione potente che calpesta tutto il cui paese solcato da fiumi voi tutti abitanti del mondo voi tutti che abitate sulla terra quando il vessillo sarà issato sui monti guardate quando la tromba sonerà ascoltate poiché così m'ha detto l'eterno io me ne starò tranquillo e guarderò dalla mia dimora come un calore sereno alla luce del sole come una nube di rugiada nel calor della messe ma prima della messe quando la fioritura sarà passata e il fiore sarà divenuto grappolo formato egli taglierà i tralci con delle roncole e torrà via e reciderà i pampini gli assiri saranno tutti assieme abbandonati agli uccelli rapaci dei monti e alle bestie della terra gli uccelli rapaci passeranno l'estate su loro cadaveri e le bestie della terra vi passeranno l'inverno in quel tempo dalle offerte saranno recate all'eterno degli eserciti dalla nazione dall'alta statura e dalla pelle lucida dal popolo temuto fin dalle regioni lontane dalla nazione potente che calpesta tutto il cui paese è solcato da fiumi saranno recate al luogo dove è il monte dell'eterno degli eserciti sul monte di sion isaia capitolo diciannovesimo oracolo sull'egitto ecco l'eterno che cavalca portanto da una nuvola leggera e viene in egitto gli idoli d'egitto tremano dinanzi a lui e all'egitto si strugge dentro il cuore io inciterò egiziani contro egiziani combatteranno il fratello contro il fratello il vicino contro il vicino città contro città regno contro regno lo spirito che anima l'egitto svanirà io frustrerò i suoi disegni e quelli consulteranno gli idoli e gli incantatori gli evocatori di spiriti e gli indovini io darò l'egitto in mano a un signore duro e un re crudele e il signore leggerà su lui dice il signore l'eterno degli eserciti le acque verranno meno al mare il fiume diverrà secco e arido e rivi diventeranno infetti i canali d'egitto scemeranno e resteranno asciutti le canne e i giunchi deperiranno le praterie sul nilo lungo le rive del nilo tutti i seminati presso il fiume seccheranno diverranno brulli spariranno i pescatori gemeranno tutti quelli che gettan l'amo nel nilo saranno in lutto e quei che stendono le reti sull'acqua languiranno quei che lavorano il lino pettinato e i tessitori di cotone saranno confusi le colonne del paese saranno infrante tutti quelli che vivono d'un salario avranno l'anima attristata i principi di Zoan non sono che degli stolti i più savi fra i consiglieri di Faraone danno dei consigli insensati come potete mai dire a Faraone io sono figliuolo dei savi figliuolo degli antichi re e dove sono i tuoi savi te l'annunzino essi e lo riconoscono essi quello che l'eterno degli eserciti ha deciso contro l'Egitto i principi di Zoan sono diventati stolti i principi di Nof si ingannano han traviato l'Egitto essi la pietra angolare delle sue tribù l'Eterno ha messo in loro uno spirito di vertigine ed essi fan barcollare l'Egitto in ogni sua impresa come l'ubriaco che barcolla vomitando e nulla gioverà l'Egitto di quel che potranno fare il capo o la coda la palma o il giunco in quel giorno l'Egitto sarà come le donne tremerà sarà spaventato vedendo la mano dell'Eterno degli eserciti che sagita che sagita minacciosa contro di lui e il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto tutte le volte che egli se ne fa menzione l'Egitto sarà spaventato a motivo della decisione presa contro di lui dall'Eterno degli eserciti in quel giorno vi saranno nel paese d'Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan e che giungeranno per l'Eterno degli eserciti e una di esse sarà chiamata la terra del sole in quel giorno in mezzo al paese d'Egitto vi sarà un altare eretto all'Eterno e presso la frontiera una colonna consacrata all'Eterno sarà per l'Eterno degli eserciti un segno e una testimonianza nel paese d'Egitto quando essi grideranno all'Eterno a motivo dei loro oppressori egli manderà loro un salvatore e un difensore a liberarli e l'Eterno si farà conoscere all'Egitto e agli egiziani in quel giorno conosceranno l'Eterno gli offriranno un culto con sacrifici ed offerte e faranno voti all'Eterno e li adempiranno così l'Eterno colpirà gli egizi li colpirà e li guarirà ed essi si convertiranno all'Eterno che si arrenderà alle loro supplicazioni e li guarirà in quel giorno vi sarà una strada dall'Egitto in Assiria gli Assiri andranno in Egitto e gli egiziani in Assiria e gli egiziani serviranno l'Eterno con gli Assiri in quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con l'Assiria e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra l'Eterno degli eserciti li benedirà dicendo benedetti siano l'Egitto mio popolo la Siria opera delle mie mani e Israele la mia eredità Isaia capitolo ventesimo l'anno che Tartam mandato da Saragon re d'Assiria mosse contro Asdot la cinse d'assedio e la prese e verso quel tempo l'Eterno parlò per mezzo di Isaia figliolo di Amoz e gli disse va sciogliti il sacco sui fianchi e togliti i calzari dai piedi questi fece così e camminò seminudo e scalzo e l'Eterno disse come il mio servo Isaia va seminudo e scalzo segno e prestigio durante tre anni contro l'Egitto e contro l'Etiopia così il re d'Assiria menerà via i prigionieri dell'Egitto e i deportati dell'Etiopia giovani e vecchi seminudi e scalzi con le natiche scoperte e vergogna dell'Egitto e quelli saranno costernati e confusi a motivo dell'Etiopia in cui avevo riposta la loro speranza e a motivo dell'Egitto di cui si gloriavano e gli abitanti di questa costa diranno in quel giorno ecco a che è ridotto il paese in cui speravamo al quale avevamo ricorso in cerca d'aiuto per essere liberati dal re di Assiria come scamperemo noi Isaia capitolo ventunesimo oracolo contro il deserto marittimo come gli uragani del mezzodì quando si scatenano e viene dal deserto da un paese spaventoso una visione terribile mi è stata data il perfido agisce con perfidia il devastatore devasta sali o Elam metti l'assedio o media io fo' cessare ogni gemito perciò i miei fianchi sono pieni di dolori delle doglie mancolto pari alle doglie di una donna di parto io mi contorco per quel che ho sentito sono spaventato da quel che vedo il mio cuore si smarrisce il terrore si impossessa di me la sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento si prepara la mensa veglia le guardie si mangia e si beve in piedi o capi ungete lo scudo perché così m'ha parlato il Signore va metti una sentinella che s'annunzi quel che vedrà e sa vide della cavalleria dei cavalieri due a due della truppa a dorso d'asini della truppa a dorso di cammelli e quella ascoltava ascoltava attentamente poi poi gridò come un leone o Signore di giorno io sto del continuo sulla torre di vedetta e tutte le notti sono in piena il mio posto di guardia ed ecco venire della cavalleria dei cavalieri a due a due e quella riprese a dire caduta caduta e Babilonia e tutte le immagini scolpite dei suoi dei giace un frantumate al suolo o popol mio che sei trebbiato come il grano della mia aia ciò che hai udito dall'eterno degli eserciti dalle Dio di Israele io te l'ho annunziato oracolo contro Duma mi si grida da Seir sentinella a che punto è la notte sentinella a che punto è la notte la sentinella risponde viene la mattina e viene anche la notte se volete interrogare interrogate pure tornate un'altra volta oracolo contro l'arabia passerete la notte nelle foreste in arabia o carovane dei dedattniti venite incontro all'assetato con dell'acqua abitanti del paese di tema recate del pane e fuggiaschi poiché essi fuggono dinanzi alle spade dinanzi alla spada snudata dinanzi all'arcoteso dinanzi al furore della battaglia poiché così ha parlato il Signore fra un anno contato come quello di un mercenario tutta la gloria di Chedar sarà venuta meno e ciò che resterà del numero dei valorosi arcieri di Chedar sarà poca cosa poiché l'Eterno l'Iddio di Israele l'ha detto Isaia capitolo ventiduesimo oracolo contro la valle della visione che hai tu dunque che tu sia tutta quanta salita sui tetti o città piena di clamori città di tumulti città piena di gaiezza i tuoi uccisi non sono uccisi di spada o morti in battaglia tutti i tuoi capi fuggono assieme sono fatti prigionieri senza che l'arco sia stato tirato tutti quelli dei tuoi che sono trovati sono fatti prigionieri benché fuggiti lontano perciò dico stornate da me lo sguardo io vo piangere amaramente non insistete a volermi consolare del disastro della figliuola del mio popolo poiché è un giorno di tumulto di calpestamento di perplessità il giorno del Signore dell'Eterno degli eserciti nella valle delle visioni si abbattono le mura il grido d'angoscia giunge fino ai monti Elan porta il turcasso con delle truppe sui carri e dei cavalieri Kirk snuda lo scudo le tue più belle valli sono piene di carri e i cavalieri prendono posizione davanti alle tue porte il velo è strappato a giuda in quel giorno ecco che volete lo sguardo all'arsenale sul palazzo della foresta osservate che le brecce della città di Davide sono numerose e raccogliete le acque del serbatoio di sotto contate le case di Gerusalemme e demolite le case per fortificare le mura fate un bacino fra le due mura per le acque del serbatoio antico ma non volgete lo sguardo a colui che ha fatto queste cose e non vedete colui che da lungo tempo le ha preparate il Signore l'Eterno degli eserciti vi chiama in questo giorno a piangere a far lamento a radervi il capo e a cingere il sacco ed ecco che tutto è gioia tutto è festa si ammazziano buoi si scanano pecore si mangia carne si beve vino mangiamo e beviamo poiché domani morremo ma l'Eterno degli eserciti me l'ha rivelato chiaramente no questa iniquità non la potrete spiare che con la vostra morte dice il Signore l'Idio degli eserciti così parla il Signore l'Eterno degli eserciti va a trovare questo cortigiano Shebna prefetto del palazzo ed egli che hai tu qui e che hai tu qui che ti sei fatto scavar qui un sepolcro scavarsi un sepolcro in alto lavorarsi una dimora nella roccia ecco l'Eterno ti lancerà via con un braccio vigoroso farà di te un gomitolo ti farà rotolare rotolare come una palla sopra una spaziosa pianura qui qui vi morrai qui vi saranno i tuoi carri superbi o vituperio della casa del tuo Signore io ti caccerò dal tuo ufficio e tu sarai buttato giù dal tuo posto in quel giorno io chiamerò il mio servo Eliachim figliolo di Ulokia lo vestirò della tua tunica lo ricingerò della tua cintura rimetterò la tua autorità nelle sue mani ed egli sarà un padre per gli abitanti di Giurisalemme e per la casa di Giuda metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide egli aprirà e niuno chiuderà egli chiuderà e niuno aprirà lo pianterò come un chiodo in un luogo solido ed egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre a lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre i suoi rampolli nobili e ignobili tutti i vasi più piccoli dalle coppie alle bottiglie in quel giorno dice l'Eterno degli eserciti il chiodo piantato in un luogo solido sarà tolto sarà strappato cadrà e tutto ciò che verrà peso sarà distrutto poiché l'Eterno l'ha detto Isaia capitolo ventitreesimo oracolo contro tiro urlate o nave di Tarsis poiché essa è distrutta non più case non più alcuno che entri in essa dalla terra di Chittim ne è giunta loro la notizia siate stupefatti o abitanti della costa che i mercanti di Sidon passando il mare affollavano attraverso le grandi acque i grani del Nilo la messe del fiume era la sua entrata e l'era il mercato delle nazioni si confusa o Sidon poiché così parla il mare la fortezza del mare io non sono state indoglie e non ho partorito non ho nutrito dei giovani non ho allevato delle vergini quando la notizia giungerà in Egitto tutti saranno addolorati a sentire le notizie di tiro passate a Tarsis urlate o abitanti della costa è questa la vostra città sempre Gaia la cui origine è data dai giorni antichi i suoi piedi la portavano in terre lontane a soggiornarvi chi mai ha decretato questo controtiro la dispensatrice di corone i cui mercanti erano principi i cui negozianti erano dei nobili della terra l'ha decretato l'Eterno degli eserciti per offuscare l'orgoglio di ogni splendore per avvilire tutti i grandi della terra percorri liberamente il tuo paese come fa il Nilo o figliuola di Tarsis nessun gioco più l'Eterno ha steso la sua mano sul mare ha fatto tremare i regni ha ordinato riguardo a Canaan che si hanno distrutte le sue fortezze e ha detto tu non continuerai più a rallegrarti o figliuola di Sidon vergine disonorata levati passa nel paese di Chitin neppure qui vi troverai requie ecco il paese dei caldei di questo popolo che già non esisteva il paese dell'Assiro assegnò a questi abitatori del deserto essi innalzano le loro torri d'assedio distruggano i palazzi di Tiro ne fanno un monte di rovine urlate o navi di Tarsis perché la vostra fortezza è distrutta in quel giorno Tiro cadrà nell'oblio per settant'anni per la durata della vita d'un re in capo a settant'anni avverrà di Tiro quel che dice la canzone della meretrice prendi la cetra va attorno per la città o meratrice dimenticata suona bene moltiplica i canti perché qualcuno si ricordi di te e in capo a settant'anni l'Eterno visiterà Tiro ed essa tornerà i suoi guadagni e si prostituirà con tutti i regni del mondo sulla faccia della terra ma i suoi guadagni e i suoi salari impuri saranno consacrati all'Eterno non saranno accumulati nei riposti poiché i suoi guadagni andranno a quelli che stanno nel cospetto dell'Eterno perché mangino si sassino e si vestino d'apidi sontuosi Isaia capitolo ventiquattresimo ecco l'Eterno vuota la terra e la rende deserta ne sconvolge la faccia ne disperde gli abitanti avverrà al sacerdote lo stesso che al popolo al padrone lo stesso che al suo servo alla padrona lo stesso che alla serva a chi vende lo stesso che a chi compra a chi presta lo stesso che a chi prende ad imprestito al creditore lo stesso che al debitore la terra sarà del tutto vuotata sarà del tutto abbandonata al saccheggio poiché l'Eterno ha pronunziato questa parola la terra è in lutto è spossata il mondo langue è spossato gli altolocati fra il popolo della terra languono la terra è profanata dai suoi abitanti perché essi han trasgredito le leggi han violato il comandamento han rotto il patto eterno perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena perciò gli abitanti della terra sono consumati e poca è la gente che ne è rimasta il mosto è in lutto la vigna langue tutti quelli che avevano la gioia nel cuore sospirano l'allegria dei tamburelli è cessata il chiasso dei festanti è finito il suono allegro dell'arpa è cessato non si beve più vino in mezzo ai tanti la bevanda alcolica è amara ai bevitori la città è deserta e in rovina ogni casa è serrata nessuno più ventra per le strade sodon lamenti perché non c'è vino ogni gioia è tramontata l'allegrezza ha esulato dalla terra nella città non resta che la desolazione e la porta sfondata cade in rovina poiché avviene in mezzo alla terra fra i popoli quel che avviene quando si scuotano gli olivi quando si racimola dopo la vendegna i superstiti alzan la voce mandan gridi di gioia acclaman dal mare la maestà dell'eterno glorificate dunque l'eterno nelle regioni dell'aurora glorificate il nome dell'eterno l'idio di israele nelle isole del mare dall'estremità della terra o di incantare gloria al giusto ma io dico ahimè lasso ahimè lasso guai a me i perfidi agiscono perfidamente sì i perfidi raddoppian la perfidia spavento fossa laccio ti sovrastano o abitante della terra e avverrà che chi fuggirà dinanzi alle grida di spavento cadrà nella fossa e chi risalirà dalla fossa resterà preso nel laccio poiché si apriranno dall'alto le cateratte e le fondamente della terra tremeranno la terra si schianterà tutta la terra si screpolerà interamente la terra tremerà traballerà la terra barcolerà come un ebro vacillerà come una capanna il suo peccato grava su lei essa cade e non si rialzerà mai più in quel giorno l'eterno punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di la sua e giù sulla terra i re della terra i re della terra saranno radunati assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sottoterra saranno rinchiusi nella prigione e dopo gran numero di giorni saranno puniti la luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna poiché l'eterno degli eserciti regnerà sul monte di Sion ed in Gerusalemme fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani Esaia capitolo venticinquesimo O eterno tu sei il mio Dio io t'esalterò celebrerò il tuo nome perché hai fatto cose meravigliose i tuoi disegni concepiti da tempo sono fedeli e stabili poiché tu hai ridotto le città in un mucchio di pietre la città forte in un monte di rovine il castello degli stranieri non è più una città non sarà mai più riedificato perciò il popolo forte ti glorifica le città delle nazioni possenti ti temono poiché tu sei stato una fortezza per il povero una fortezza per il misero nella distretta un rifugio contro la tempesta un'ombra contro l'arsura giacché il soffio dei tiranni era come una tempesta che batte la muraglia come il calore è domato in una terra arida così tu hai domato il tumulto degli stranieri come il calore è diminuito all'ombra di una nuvola così il canto dei tiranni è stato abbassato l'eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succulenti un convito di vini vecchi di cibi succulenti pieni di midollo di vini vecchi ben chiariti distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni annienterà per sempre la morte il signore l'eterno asciugherà le lacrime da ogni viso torrà via di su tutta la terra l'onta del suo popolo perché l'eterno ha parlato in quel giorno si dirà ecco questo è il nostro dio in lui abbiamo sperato ed egli ci ha salvati questo è l'eterno in cui abbiamo sperato esultiamo rallegramoci per la sua salvezza poiché la mano dell'eterno riposerà su questo monte mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si pigia la paglia nell'etamaio di mezzo all'etamaio egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare ma l'eterno farà cadere la sua superbia in un con le trame che ha ordite e l'alta fortezza delle mura egli la demolirà la batterà l'atterrerà fin nella polvere Isaia capitolo ventiseiesimo in quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda noi abbiamo una città forte l'eterno vi pone la salvezza per mura e per bastioni aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele a colui che si è fermato nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida confidate in perpetuo nell'eterno poiché l'eterno sì l'eterno è la roccia dei secoli egli ha umiliato quelli che stavano in alto egli ha abbassato le città elevate l'ha abbassata fino a terra l'ha stesa nella polvere i piedi la calpestano i piedi del povero vi passano sopra vi passano sopra i meschini la via del giusto è diritta tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto sulla via dei tuoi giudizi o eterno noi abbiamo aspettato al tuo nome al ricordo anela l'anima nostra con l'anima mia ti desidero durante la notte con lo spirito che dentro di me ti cerco poiché quando i tuoi giudizi si compion sulla terra gli abitanti del mondo imparan la giustizia se si fa grazia all'empio e non impara la giustizia agisci da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà dell'eterno o eterno la tua mano è levata ma quelli non la scorgono essi vedranno lo zelo che hai per il tuo popolo e saranno confusi il fuoco divorerà i tuoi nemici o eterno tu ci darai la pace poiché ogni opera nostra se tu la copri per noi o eterno dio nostro altri signori fuori di te han dominato su noi ma grazie a te solo noi possiamo celebrare il tuo nome quelli sono morti e non rivivranno più sono ombre e non risorgeranno più tu li hai così puniti li hai distrutti ne hai fatto per ira ogni ricordo tu hai aumentata la nazione o eterno hai aumentata la nazione ti sei glorificato hai allargato tutti i confini del paese o eterno essi nella distretta ti hanno cercato si sono effusi in umile preghiera quando il tuo castigo li colpiva come una donna incinta che sta per partorire si contorge e grida in mezzo alle sue doglie così siamo stati noi dinanzi a te o eterno abbiamo concepito siamo stati in doglie e quando abbiamo partorito era vento non abbiamo recato alcuna salvezza al paese e non sono nati degli abitanti nel mondo rivivano i tuoi morti risorgano i miei cadaveri svegliatevi e giubilate o voi che abitate nella polvere poiché la tua arrugiada è come la arrugiada dell'aurora e la terra ridarà alla vita le ombre va o mio popolo entra nelle tue camere chiudi le tue porte dietro a te nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione poiché ecco l'eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi Isaia capitolo ventisettesimo in quel giorno l'eterno punirà con la sua spada dura grande il forte il levità l'agile serpente il levità il serpente tortuoso e ucciderà il mostro che è nel mare in quel giorno cantate la vigna del vin vermiglio io l'eterno ne sono il guardiano io la d'acqua ad ogni istante la costudisco notte e giorno affinché e ne uno la danneggi nessuna ira è in me ah se avessi a combattere contro rovi e pruni io muoverei contro a loro e li brucerei tutti assieme a meno che non mi si prenda per rifugio che non si faccia la pace meco che non si faccia la pace meco in avvenire Giacobbe metterà radice Israele fiorirà e germoglierà e copriranno di frutta la faccia del mondo l'eterno ha egli colpito il suo popolo come l'ha colpito quelli che colpivano lui l'ha egli ucciso come ha ucciso quelli che uccidevano lui tu l'hai punito con misura mandandolo lontano portandolo via col tuo soffio impetuoso in un giorno di vento orientale in questo modo è stata espiata l'iniquità di Giacobbe e questo è il frutto della rimozione del suo peccato che egli ha ridotte tutte le pietre degli altari come pietre di calce frantumate in guisa che gli idoli d'astarte e le colonne solari non risorgeranno più la città forte è una solitudine una dimora inabitata abbandonata come il deserto vi pascolano i vitelli vi giaceranno e ne divoreranno gli arbusti quando i rami saranno secchi saranno rotti e verranno le donne a bruciarli poiché è un popolo senza intelligenza perciò colui che l'ha fatto non ne avrà compassione colui che l'ha formato non gli farà grazia in quel giorno l'Eterno scoterà i suoi frutti dal corso del fiume al torrente d'Egitto e voi sarete raccolti ad uno ad uno o figliuoli di Israele in quel giorno suonerà una gran tromba e quelli che erano perduti nel paese da Siria e quelli che erano dispersi nel paese d'Egitto verranno e si prostreranno dinnanzi all'Eterno sul monte santo a Gerusalemme Isaia capitolo ventotesimo Guai alla superba corona degli ubriachi Defraim e al fiore che appassisce splendido ornamento che sta sul capo della grassa valle degli storditi dal vino ecco venire da parte del Signore un uomo forte potente come una tempesta di grandine un uragano distruttore come una piena di grandi acque che straripino e i getta quella corona a terra con violenza la superba corona degli ubriachi di Efraim sarà calpestata e il fiore che appassisce lo splendido ornamento che sta sul capo della grassa valle sarà come il fico primaticcio davanti l'estate appena uno lo scorge la in mano lo tranguccia in quel giorno l'eterno degli eserciti sarà una splendida corona un diadema d'onore al resto del suo popolo uno spirito di giustizia a colui che siede come giudice la forza di quelli che respingano il nemico fino alle sue porte ma anche questi barcollam per il vino e vacillano per le bevande inebrianti sacerdote e profeta barcollam per le bevande inebrianti affogano nel vino vacillano per le bevande inebrianti barcollano e profetizzano tentennano rendano giustizia tutte le tavole sono piene di vomito di lordure non v'è più posto pulito a chi vuol egli dare insegnamenti a chi vuol egli far capire la lezione a dei bambini appena divezzati stancati dalle mammelle poiché è un continuo dar percetto dopo precetto percetto dopo precetto regola dopo regola regola dopo regola un poco qui un poco là ebbene sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua barbara che l'eterno parlerà a questo popolo egli aveva detto loro ecco il riposo lasciar riposare lo stanco questo è il refrigerio ma quelli non hanno voluto ascoltare e la parola dell'eterno è stata per loro precetto dopo precetto precetto dopo precetto regola dopo regola regola dopo regola un po' qui un poco là onde si andassero a cadere a rovescio fossero fiaccati colti al laccio e presi ascoltate dunque la parola dell'eterno o schernitori che dominate questo popolo di gerusalemme e voi dite noi abbiamo fatto alleanza con la morte abbiamo fermato un patto col soggiorno dei morti quando l'inondante flagello passerà ma non giungerà fino a noi perché abbiamo fatto delle menzogne il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro la frode perciò così parla il signore l'eterno ecco io ho posto come fondamento in sion una pietra una pietra provata una pietra angolare preziosa un fondamento solido chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire io prenderò il diritto per livello e la giustizia per piombino la grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro ricetto la vostra alleanza con la morte sarà annullata e il vostro patto col soggiorno dei morti non reggerà quando l'inondante flagello passerà voi sarete da esso calpestati ogni volta che passerà vi affererà poiché passerà mattina dopo mattina di giorno e di notte e sarà spaventevole imparare una tal lezione poiché il letto sarà troppo corto per distendervisi e la coperta troppo stretta per avvolgervisi già che l'eterno si leverà come al monte perazzin e s'addirerà come nella valle di gabon per fare l'opera sua l'opera sua singolare per compiere il suo lavoro lavoro inaudito ordunque non fate gli schernitori che i vostri legame non sappiano a rafforzare poiché io ho udito da parte del signore dell'eterno degli eserciti che è deciso uno sterminio completo di tutto il paese porgete l'orecchio e date ascolto alla mia voce state attenti e ascoltate la mia parola l'agricoltore ara egli sempre per seminare rompe ed erpica egli sempre la sua terra quando ne ha appianata la superficie non vi semina egli l'aneto e non vi sparge il comino e non vi mette il frumento a solchi l'orzo nel luogo designato e il farro entro i limiti ad esso assegnati il suo dio gli insegna la regola da seguire la maestra l'aneto non si trebbia con la trebbia né si fa passare sul comino la ruota del carro ma l'aneto si batte col bastone e il comino con la verga si trebbia il grano non di meno non lo si trebbia sempre vi si fa passare sopra la ruota del carro i cavalli ma non si schiaccia anche questo procede dall'eterno degli eserciti meravigliosi sono i suoi disegni grande è la sua sapienza isaia capitolo ventinovesimo guai ad ariel ad ariel città dove accampò davide aggiungete anno ad anno compiano le feste dei loro cielo poi stringerò ariel da presso vi saranno lamenti e gemiti ed ella mi sarà come un ariel io porrò il mio campo attorno a te come un cerchio io ti ricingerò di fortilizi eleverò contro di te opere d'assedio sarai abbassata parlerai da terra e la tua parola uscirà sommessamente dalla polvere la tua voce salirà dal suolo come quella di uno spettro e la tua parola sorgerà dalla polvere come un bisbiglio ma la moltitudine dei tuoi nemici diventerà come polvere minuta e la folla di quei terribili come pula che vola e ciò avverrà ad un tratto in un attimo e sarà una visitazione dell'eterno degli eserciti con tuoni terremoti e grandi rumori con turbine tempesta con fiamma di fuoco divorante e la folla di tutte le nazioni che marciano contro ad Ariel di tutti quelli che attaccano lei e la sua cittadella e la stringono da presso sarà come un sogno come una visione notturna e come un affamato sogna ed ecco che mangia poi si sveglia e dallo stomaco vuoto e come uno che ha sete e sogna che beve e poi si sveglia ed eccolo stanco ed assetato così avverrà della folla di tutte le nazioni che marciano contro al monte di Sion stupitevi pure sarete stupiti chiudete pure gli occhi diventerete scechi costoro sono ubriachi ma non divino barcollano ma non per le bevande spiritose è l'eterno che ha sparso su voi uno spirito di torpore e ha chiuso i vostri occhi i profeti ha velato i vostri capi i veggenti tutte le visioni profetiche sono divenute per voi come le parole ed uno scritto sigillato che si desse ad uno che non sa leggere e dicendogli ti prego leggi questo il quale risponderebbe non posso perché è sigillato ovvero come uno scritto che si desse ad uno che non sa leggere dicendogli ti prego leggi questo il quale risponderebbe non so leggere il signore ha detto già che questo popolo s'avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra mentre il suo cuore lungi da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini ecco che io continuerò a fare tra questo popolo delle meraviglie meraviglie su meraviglie e la saviezza dei suoi savi perirà e l'intelligenza degli intelligenti di esso sparirà guai a quelli che si ritraggono lungi dall'eterno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni che fanno le opere loro nelle tenebre e dicono chi ci vede chi ci conosce che per servità è la vostra il vasaio sarà egli reputato al par dell'argilla sì che l'opera dica all'operaio ehi non m'ha fatto sì che il vaso dica al vasaio non ci capisce nulla ancora un brevissimo tempo e il libano sarà mutato in un frutteto e il frutteto sarà considerato come una foresta in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e i liberati dall'oscurità e delle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno gli umili avranno abbondanza di gioia nell'eterno e i più poveri fra gli uomini esulteranno nel santo di israele perché il violento sarà scomparso il beffardo non sarà più e saranno distrutti tutti quelli che vegliano per commettere iniquità che condannano un uomo per una parola che tendono tranelli a chi difende le cause alla porta e violano il diritto del giusto per un nulla perciò così dice l'eterno alla casa di giacobbe l'eterno che riscattò braamo giacobbe e non avrà più da vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più poiché quando i figliuoli vedranno in mezzo a loro l'opera delle mie mani santificheranno il mio nome santificheranno il santo di giacobbe e temeranno grandemente l'iddio di israele i traviati di spirito impareranno la salvezza e i mormoratori accetteranno l'istruzione Isaia capitolo trentesimo guai dice l'eterno ai figliuoli ribelli che formano dei disegni ma senza di me che contraggono alleanze ma senza il mio spirito per accumulare peccato su peccato che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercar ricetto all'ombra dell'Egitto ma la protezione di Faraone vi tornerà confusione e il ricetto all'ombra dell'Egitto ad ignominia i principi di Giuda sono già a Zohan i suoi ambasciatori sono già arrivati a Anes ma tutti si arrossiscono d'un popolo che annulla giovaloro che non reca aiuto né giovamento alcuno ma è la loro onta e la loro vergogna è pronto il carico delle bestie per mezzogiorno attraverso un paese di distrette e d'angoscia dove vengono la leonesse e il leone e la vipera e il serpente ardente che vola essi portano le loro ricchezze sul dorso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei cammelli a un popolo che non gioverà loro nulla poiché il soccorso dell'Egitto è un soffio una vanità per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivele in un libro perché rimangano per i di avvenire sempre in perpetuo giacché questo è un popolo ribelle sono dei figlioli bugiardi dei figlioli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno che dicano ai veggenti non vedete e a quelli che hanno delle visioni non ci annunziate visioni di cose vere diteci delle cose piacevoli profetateci delle chimere uscite fuori di strada abbandonate il sentiero retto toglieteci dinnanzi agli occhi il santo di Israele perciò così dice il santo di Israele già che voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione nelle vie oblique e ne fate il vostro appoggio questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina e che fa pancia in un alto muro il cui crollo avviene ad un tratto in un istante e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno frantuma senza pietà e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prendere del fuoco dal fuocolare o ad attingere l'acqua dalla cisterna poiché così avrà detto il Signore l'Eterno il Santo di Israele nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza nella calma e nella fiducia starà la vostra forza ma voi non l'avete voluto avete detto no noi galopperemo sui nostri cavalli e per questo galopperete e cavalcheremo sui veloci destrieri e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci mille di voi fuggiranno alla minaccia ad uno solo alla minaccia di cinque vi darete alla fuga finché rimaniate come un palo in vetta a un monte come un'antenna sopra un colle perciò l'Eterno aspetterà onde farvi grazia poi si leverà per aver compassione di voi poiché l'Eterno è un Dio di giustizia beati tutti quelli che sperano in Lui però che o popolo di Sion che abiti a Gerusalemme tu non piangerai più e i certo ti farà giustizia all'udire il tuo grido tosto che l'avrà udito ti risponderà e il Signore vi darà sì del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione ma quei che maestreranno non dovranno più nascondersi i tuoi occhi vedranno chi ta maestra e quando andrete a destra o quando andrete a sinistra le tue orecchie vedranno dietro a te una voce che dirà questa è la via camminate per essa e considerate come cose contaminate le vostre immagini scolpite ricoperte d'argento e le vostre immagini fuse rivestite d'oro e le getterete via come una cosa impura fuori di qui direte loro egli ti darà la pioggia per la semenza di cui avrai seminato il suolo e il pane che il suolo produrrà saporito ed abbondante e in quel giorno il tuo bestiame pascolerà in vasti pascoli i buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno foraggi salati ventilati con la pala e il ventilabro sopra ogni alto monte e sopra ogni elevato colle vi saranno ruscelli acque correnti nel giorno del gran massacro quando cadranno le torri la luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte più viva come la luce di sette giorni assieme nel giorno che l'eterno fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse ecco il nome dell'eterno viene da lungi la sua ira è ardente grande nella conflagrazione le sue labbra sono piene di indignazione la sua lingua è come un fuoco divorante il suo fiato è come un torrente che straripa che arriva fino al collo e viene a vagliare le nazioni col vaglio della distruzione e a mettere tra le mascelle dei popoli un freno che li faccia fuorviare allora intonerete dei canti come la notte quando si celebra una festa e avrete la gioia nel cuore come colui che cammina al son del flauto per andare al monte dell'eterno alla rocca di israele e l'eterno farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce col suo braccio nel furore della sua ira tra le fiamme ed un fuoco divorante in mezzo alla tempesta a un diluvio di pioggia a una gragnuola di sassi poiché alla voce dell'eterno l'assiro sarà costernato l'eterno lo colpirà col suo bastone ed egli ed ogni passaggio del flagello destinatoli che l'eterno gli farà piombare addosso sarà accompagnato dal suono di tamburelli e di cetre l'eterno combatterà contro di lui a colpi raddoppiati poiché da lungo tempo Toffet è preparato è pronto anche per il re è profondo ed ampio il suo rogo vede il fuoco e le legne in abbondanza il soffio dell'eterno come un torrente di solfo sta per accenderlo Isaia capitolo trentunesimo guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e si appoggiano su cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'eterno eppure anche egli è savio e fa venire il male e non revoca le sue parole ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità or gli egiziani sono uomini e non Dio i loro cavalli sono carne e non spirito e quando l'eterno stenderà la sua mano il protettore inciamperà e cadrà il protetto e periranno tutti assieme poiché così m'ha detto l'eterno come il leone e leoncello rugge sulla sua preda e benché una folla di pastori gli stia chiamata contro non si spaventa la loro voce e ne si lascia intimidire dallo strepito che fanno così scenderà l'eterno degli eserciti a combattere sul monte di Sion e sul suo colle come gli uccelli spiegano ali sulla loro nidiata così l'eterno degli eserciti proteggerà Gerusalemme la proteggerà la libererà la risparmierà la farà scampare tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati o figlioli di Israele poiché in quel giorno ognuno getterà via i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro che le vostre proprie mani hanno fatto per peccare allora l'assiro cadrà per una spada non duomo e una spada che non è duomo lo divorerà ed ei fuggirà dinanzi alla spada e i suoi giovani saranno asserviti e la sua rocca fuggirà spaventata e i suoi principi saranno atterriti dinanzi al vessillo dice l'eterno che ha il suo fuoco in Sion e la sua fornace in Gerusalemme Isaia trentaduesimo capitolo ecco un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno con equità ognuno d'essi sarà come un riparo dal vento come un rifugio contro l'uragano come dei corsi d'acqua in un luogo arrido come l'ombra d'una gran roccia in una terra che langue gli occhi di quei che veggano non saranno più accecati e gli orecchi di quei che odano staranno attenti il cuore degli inconsiderati capirà la saviezza e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e distinta lo scelerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo poiché lo scelerato proferisce sceleratezze e il suo cuore si dà l'iniquità per commettere cose empie e dir cose malvage contro l'eterno per lasciar vuota l'anima di chi ha fame e far mancare la bevanda a chi ha sete le armi dell'impostore sono malvage e forma criminosi disegni per distruggere il misero con parole bugiarde e il bisognoso quando afferma il giusto ma l'uomo nobile ferma nobili segreti nobili disegni e sorge a pro di nobili cose o donne spensierate levatevi e ascoltate la mia voce o figlie troppo fiduciose porgete orecchio alla mia parola fra un anno e qualche giorno voi tremerete o donne troppo fiduciose perché la vendemmia è ita e non si farà raccolta abbiate spavento o donne spensierate tremate o troppo fiduciose spogliatevi snudatevi cingetevi di ciligio i fianchi picchiandovi il seno a motivo dei campi già così belli e delle vigne già così feconde sulla terra del mio popolo cresceranno pruni e rovi sì su tutte le case di piacere della città gioconda poiché il palazzo sarà abbandonato la città rumorosa sarà resa deserta la collina e la torre saranno per sempre ridotte in caverne in luogo di spasso per gli onagri e di pascolo per greggi finché su noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta allora l'equità abiterà nel deserto e la giustizia avrà la sua dimora nel frutteto il frutto della giustizia sarà la pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre il mio popolo abiterà in un soggiorno di pace in dimore sicure in quei luoghi di riposo ma la foresta cadrà sotto la grandine e la città sarà profondamente abbassata beati voi che seminate in riva tutte le acque e che lasciate andar libero il pie del bove e dell'asino isaia capitolo trentatreesimo guai a te che devasti e non sei stato devastato che sei perfido e non ti è stata usata perfidia quando avrai finito di devastare sarai devastato quando avrai finito d'essere perfido ti sarà usata perfidia o eterno abbi pietà di noi noi speriamo in te sii tu il braccio del popolo ogni mattina la nostra salvezza in tempo di distretta alla tua voce tonante fuggono i popoli e quando tu sorgi si disperdon le nazioni il vostro bottino sarà mietuto come miete il bruco altri vi si precipiterà sopra come si precipita la locusta l'eterno esaltato perché abita in alto egli riempie sion di equità e di giustizia i suoi giorni saranno resi sicuri la saviezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione il timore dell'eterno è il tesoro di sion ecco i loro eroi gridano di fuori i messaggeri di pace piangono amaramente le strade sono deserte nessuno passa per le vie il nemico ha rotto il patto disprezza le città non tiene in alcun conto gli uomini il paese è nel lutto e langue il libano si vergogna ed intrinsisce saro è come un deserto basan e carmel hanno perduto il fogliame ora mi leverò dice l'eterno ora sarò esaltato ora mergerò in alto voi avete concepito pula e partorite stoppa il vostro fiato è un fuoco che vi devorerà i popoli saranno come fornaci di calce come rovi taglianti che si danno alle fiamme o voi che siete lontani udite quello che ho fatto e voi che siete vicini riconoscete la mia potenza i peccatori sono presi da spavento in Sion un traemito si è impadronito degli empi chi di noi potrà resistere al fuoco divorante chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne colui che cammina per le vie della giustizia e parla rettamente colui che sprezza i guadagni estorti che scuote le mani per non accettare regali che si tura gli orecchi per non udire parlare di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male quegli dimorerà in luoghi elevati le rocce fortificate saranno il suo rifugio e il suo pane gli sarà dato la sua acqua gli sarà assicurata gli occhi tuoi mireranno il re nella sua bellezza contempleranno il paese che si estende lontano il tuo cuore mediterà su terrori passati dov'è il commissario? dove colui che pesava il denaro? dove colui che teneva il conto delle torri? tu non lo vedrai più quel popolo feroce quel popolo dal linguaggio scuro che non si intende che balbetta una lingua che non si capisce mira Sion la città delle nostre solennità i tuoi occhi vedranno Gerusalemme soggiorno tranquillo tenda che non sarà mai trasportata i cui fioli non sarà mai diverti il cui cordame non sarà mai strappato qui l'Eterno sta per noi in tutta la sua maestà in luogo di torrenti e di larghi fiumi dove non giunge nave da remi dove non passa potente vascello poiché l'Eterno è il nostro giudice l'Eterno è il nostro legislatore l'Eterno è il nostro re egli è colui che ci salva i tuoi cordami o nemico sono rallentati non tengan più fermo il pie l'albero e non spiegan più vele allora si spartirà la preda ad un ricco bottino gli stessi zoppi prenderanno parte al saccheggio nessun abitante dirà io sono malato il popolo che abita Sion ha ottenuto il perdono della sua iniquità Isaia capitolo trentaquattresimo accostatevi nazioni per ascoltare e voi popoli state attenti ascolti la terra con ciò che le riempe e il mondo con tutto ciò che produce poiché l'Eterno è indignato contro tutte le nazioni e è adirato contro tutti i loro eserciti e le vuota allo sterminio le dà in balia alla strace i loro uccisi sono gettati via i loro cadaveri esaltan fetore e i monti si sciolgono nel loro sangue tutto l'esercito del cielo si dissolve i cieli sono arrotolati come un libro e tutto il loro esercito cade come cade la foglia dalla vite come cade il fogliame morto dal fico la mia spada senebriata nel cielo ecco essa sta per piombare su Edom sul popolo che ha votato allo sterminio per farne giustizia la spada dell'Eterno è piena di sangue è coperta di grasso di sangue d'agnelli e di capri di grasso d'arnioni di montoni poiché l'Eterno fa un sacrificio a Bostra e un gran macello nel paese d'Edom cadono come quelli bufali e giovenchi e i tori e il loro suolo inebriato di sangue la loro polvere impregnata di grasso poiché è il giorno della vendetta dell'Eterno l'anno della retribuzione per la causa di Sion i torrenti d'Edom saranno mutati in pesce e la sua polvere in solfo e la sua terra diventerà pesce ardente non si spengerà né notte né giorno il fumo ne salirà in perpetuo d'età in età rimarrà deserta nessuno vi passerà mai più il pellicano e il porcospino ne prenderanno possesso la civetta e il corvo abiteranno l'Eterno vi stenderà la corda della desolazione il livello del deserto quanto ai suoi nobili non ve ne saranno più per proclamare un re e tutti i suoi principi saranno ridotti a nulla i suoi palazzi cresceranno nelle spine e nelle sue fortezze le ortiche e dei cardi diventerà una dimora di sciacalli un chiuso per gli struzzi le bestie del deserto vi si incontreranno con cani selvatici e il satiro vi chiamerà il compagno qui vi lo spettro notturno farà la sua dimora e vi troverà il suo logo di riposo qui vi il serpente farà il suo nido deporrà le sue uova le coverà e raccoglierà i suoi piccini sotto di sé qui vi si raccoglieranno gli avvoltoi l'uno chiamando l'altro cercate nel libro dell'eterno e leggete nessuna di queste bestie vi mancherà nessuna sarà priva della sua compagna poiché la sua bocca l'ha comandato e il suo soffio li radunerà egli stesso ha tirato a sorte per essi e la sua mano ha diviso fra loro con la corda il paese quelli che ne avranno il possesso in perpetuo vi abiteranno di età in età Isaia capitolo trentacinquesimo il deserto e la terra arrida si rallegreranno la solitudine gioierà e fiorirà come la rosa si coprirà di fiori e festeggerà con giubilo e canti d'esultanza le sarà data la gloria del Libono la magnificenza del Carmel e di Saron essi vedranno la gloria dell'Eterno la magnificenza del nostro Dio fortificate le mani infiacchite raffermate le ginocchia vacillanti dite a quelli che hanno il cuore smarrito siate forti non temete ecco il vostro Dio farà la vendetta la retribuzione di Dio verrà egli stesso a salvarvi allora s'apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia poiché delle acque sgorgeranno nel deserto ed è torrenti nella solitudine il miraggio diventerà un luogo e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua nel ricetto che accoglieva gli sciacalli s'avrà un luogo di canne e da giunchi qui vi sarà una strada maestra una via che sarà chiamata la via santa nessun impuro vi passerà essa sarà per quelli soltanto quei che la seguiranno anche gli insensati non potranno smarrirvisi in quella via non ci saranno leoni nessuna bestia feroce e vi metterà piede o vi apparirà ma vi cammineranno i redenti e i riscattati dell'eterno torneranno verranno a Sion con canti di gioia un'allegrezza eterna coronerà il loro capo otterranno gioia e letizia e il dolore e il gemito fuggiranno Isaia trentaseesimo capitolo ora avvenne il quattordicesimo anno del re Ezechia che Sanacherib re d'Assiria salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese e il re di Assiria mandò Rab-Shake da Lachis a Gerusalemme e al re Ezechia con un grande esercito e Rab-Shake si fermò presso l'acquedotto dello stagno superiore sulla strada del campo del guacchieraio allora Eliachim figliuolo di Ilchia prefetto del palazzo Shebna il segretario e Johan figliuolo da Saf l'archivista si recarono da lui e Rab-Shake disse loro dite ad Ezechia così parla il gran re il re da Siria che fiducia e contesa che tu hai io te lo dico non sono che parole delle labbra per la guerra ci vuol prudenza e forza ora in chi hai tu riposta la tua fiducia per ribellarti a me ecco tu confidi nell'Egitto in quel sostegno di cana rotta c'entra nella mano e la fora a chi vi si appoggia tal è Faraone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui e se mi dici noi confidiamo nell'Eterno nel nostro Dio non è Egli quello stesso di cui Ezzacchia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari dicendo a Giuda e a Gerusalemme vi prostrerete dinanzi a questo altare qui or dunque fa una scommessa col mio signore il re da Siria io ti darò duemila cavalli se tu puoi fornire tanti cavaliere da montarli e come potresti tu far voltare le spalle a un solo capitano fra i minimi servi del mio signore ma tu confidi nell'Egitto per aver dei carri e dei cavalieri ed altronde Egli forse senza il voler dell'Eterno che io sono salito contro questo paese per distruggerlo è stato l'Eterno che mi ha detto sali contro questo paese e distruggilo allora Eliachim Shebna e Joab dissero a Rab Shake De parla i tuoi servi in lingua aramaica poiché non la intendiamo e non ci parlare in lingua giudaica in guisa che il popolo che è sulle mura loda ma Rab Shake rispose il mio signore ma Egli forse è mandato a dire queste parole al tuo signore e a te non ma Egli è mandato a dirle a questi uomini che stanno sulle mura e che presto saranno ridotti a mangiare loro escrementi e a bere la loro rina con voi poi Rab Shake si levò in piedi e gridò con forte voce in lingua giudaica ascoltate le parole del gran re del re d'Assiria così parla il re Ezechia non vi inganni perché egli non vi potrà liberare ne vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nell'eterno dicendo l'eterno ci libererà di certo questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria non date rette ad Ezechia perché così dice al re d'Assiria fate la pace con me arrendetevi ciascun di voi mangerà della sua vita e del suo fico e berrà l'acqua della sua cisterna finché io venga a menarvi in un paese simile al vostro paese di grano e di vino paese di pane e di vigne guardate 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 Ezechia non vi seduca dicendo l'eterno ci libererà ha qualcuno degli dè delle nazioni potuto liberare il suo paese dalle mani del re d'Assiria dove sono gli dè di Amat e di Arpad dove sono gli dè di Sefar Vaim hanno essi forse liberata Samaria dalle mani fra tutti gli dè di quei paesi quali sono quelli che abbiano liberato il loro paese dalle mie mani e l'eterno avrebbe a liberare Gerusalemme dalle mie mani e quelli si tacquero e non risposero verbo perché il re aveva dato quest'ordine non gli rispondete ed Eliachim figliuolo di Ilchia prefetto del palazzo Scebna il segretario e Gioa figliuolo d'Asaf l'archivista vennero ad Ezechia con le veste stracciate e gli riferirono le parole di Rab-Shake Isaia capitolo trentasettesimo quando il re Ezechia ebbe udito questo si stracciò le vesti si coprì d'un sacco ed entrò nella casa dell'Eterno e mandò Eliachim prefetto del palazzo Scebna il segretario e i più anziani dei sacerdoti coperti di sacchi al profeta Isaia figliuolo di Amoz i quali gli dissero così parla Ezechia questo giorno è un giorno d'angoscia di castigo e d'onta poiché i figliuoli sono giunti al punto d'uscire dal seno un materno e manca la forza per partorire forse l'Eterno il tuo Dio audite le parole di Rab Shach il quale il re da Siria suo signore ha mandato ad oltreggiare lì Dio vivente e forse l'Eterno il tuo Dio punirà le parole che audite fa dunque salire a Dio una preghiera per il residuo del popolo che sussiste ancora i servi del re Ezechia si recarono dunque da Isaia e Isaia disse loro dite al vostro signore così parla l'Eterno non temere per le parole che audite con le quali i servi del re da Siria m'hanno oltraggiato ecco io stesso metterò in lui un tale spirito che all'udire una certa notizia egli tornerà nel suo paese e io lo farò cadere di spada nel suo paese ora Rabshak se ne tornò e trovò il re da Siria che assediava l'Ibna poiché aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis allora il re da Siria ricevette questa notizia concernente Tihaka re di Etiopia egli si è messo in marcia per farti guerra e come abbia udito questo inviò le messaggeri ad Ezechia con questo messaggio dite così a Ezechia re di Giuda il tuo dio nel quale confidi non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle mani del re da Siria ecco tu hai udito quello che i re da Siria hanno fatto a tutti gli altri paesi votandole allo sterminio e tu scamperesti gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero gli dei di Gozan di Karam di Rezef e dei figlioli di Eden che sono a Telesar valsero essi a liberarle dove sono i re di Amat il re di Arpad e il re della città di Sefravaim e quelli di Henna e di Iva Ezechia prese la lettera dalle mani dei messi e la lesse poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò dinanzi all'Eterno ed Ezechia pregò l'Eterno dicendo O Eterno degli eserciti Dio di Israele che siedi sopra i cherubini tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra tu hai fatto il cielo e la terra O Eterno inclina il tuo orecchio ed ascolta O Eterno apri i tuoi occhi e vedi ascolta tutte le parole che Sana Cheribe ha mandate a dire per oltraggiare l'Iddio vivente è vero Eterno il re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e le loro terre e hanno dato alle fiamme i loro dei perché quelli non erano dei ma erano opera di manduomo legno e pietra che li hanno distrutti ma ora o Eterno o Dio nostro liberaci dalle mani di Sana Cherib affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno Allora Isaia figliuolo di Amoz mandò a dire ad Ezzachia Così dice l'Eterno l'Iddio di Israele La preghiera che tu hai rivolta riguardo a Sana Cherib re d'Assiria io l'ho udita e questa è la parola che l'Eterno ha pronunziata contro di lui La vergine figliuola di Sion ti disprezza e si fa beffe di te la figliuola di Gerusalemme scuota la testa dietro a te chi hai tu insultato e oltreggiato contro chi hai tu alzata la voce e levati in alto gli occhi tuoi contro il santo di Israele per mezzo di tu hai insultato il Signore e hai detto con la moltitudine dei miei carri io sono salito in vetta ai monti nei recessi del Libano io taglierò i tuoi cedri più alti i suoi cipressi più belli io giungerò alla più alta sua cima alla sua foresta più magnifica io ho scavato e bevuto dell'acqua con la punta dei miei piedi e prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto non hai tu udito già da lungo tempo io ho preparato queste cose da tempi antichi ne ho formato il disegno ed ora le faccio accadere e tu sei là per ridurre città forti e monti di rovine e i loro abitanti ridotti all'impotenza sono smarriti e confusi sono come l'erba dei campi come la tenera verdura come l'erba dei tetti come grano riarso prima di spigare ma io so quando ti siedi quando esci quando entri e quando ti infuri contro di me e per cotesto tu infuriare contro di me e perché la tua insolenza è giunta ai mie orecchi io ti metterò nel naso il mio anello e fra le labbra il mio freno e ti farò tornare per la via d'onde sei venuto e questo Ezechia te ne sarà il segno quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto il secondo anno quello che cresce da sé ma il terz'anno seminerete mieterete pianterete vigne e ne mangerete il frutto e il residuo della casa di giuda che sarà scampato metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion usciranno gli scampati lo zelo dell' si parla all'Eterno circa il re da Siria egli non entrerà in questa città e non vi tirerà dentro alcuna freccia non verrà davanti ad essa con scudi e non eleverà trincee contro di lei e se ne tornerà per la via dove è venuto e non entrerà in questa città dice l'Eterno poiché io proteggerò questa città per salvarla per colpì nel campo degli assiri centotrentacinque mila uomini e quando la gente si levò la mattina ecco che erano tanti cadaveri allora sana che ribre da Siria levò il suo campo partì eterno a Ninive dove rimase e avvenne che come gli stava prostrato nella casa di Nisrochi il suo dio Andrammelech e Sareste e i suoi figlioli l'uccisero a colpi di spada e si fuggirono nel paese Dararat ed Esaraddon suo figliolo regnò in suo luogo Isaia capitolo trentotesimo in quel tempo Ezacchia infermò a morte e il profeta Isaia figliolo di Amoz venne a lui e gli disse così parla all'Eterno dà i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto e non vivrai più allora Ezechia voltò la faccia verso la parete e fece all'Eterno questa preghiera o Eterno ricordati ti prego che io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto quel che è bene agli occhi tuoi ed Ezechia diede in un gran pianto allora allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Isaia in questi termini va e di ad Ezechia così parla l'Eterno l'Idio di Davide tuo padre io ho udita la tua preghiera e ho veduto le tue lacrime ecco io aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città e questo ti sarà da parte dell'Eterno il segno che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata ecco io farò retrocedere di dieci gradini l'ombra dei gradini che per effetto del sole si è allungata sui gradini di Acas e il sole retrocedette di dieci gradini sui gradini dov'era disceso scritto di Ezechia re di Giuda in occasione della sua malattia e della guarigione del suo male io dicevo nel meriggio dei miei giorni debbo andarmene alle porte del soggiorno dei morti io son privato del resto dei miei anni io dicevo non vedrò più l'Eterno l'Eterno sulla terra dei viventi fra gli abitanti del mondo dei trapassati non vedrò più alcun uomo la mia dimora è diventata ed è portata via lungi da me come la tenda di pastore io l'ho arrotolata la mia vita come fa il tessitore egli mi taglia via dalla trama dal giorno alla notte tu m'avrai finito io speravo fino al mattino ma come un leone egli mi spezzava tutta l'ossa dal giorno alla notte tu m'avrai finito io stridevo come la rondine come la gru io gemevo come la colomba i miei occhi erano stanchi da guardare in alto o eterno mi si fa violenza sii tu il mio garante che dirò ehi mi ha parlato ed ehi l'ha fatto io camminerò con umiltà durante tutti i miei anni ricordando l'amarezza dell'anima mia o signore mediante queste cose si vive in tutte queste cose sta la vita del mio spirito guariscimi dunque e rendimi la vita ecco è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza ma tu nel tuo amore hai liberato l'anima mia dalla fossa della corruzione perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti non è la morte che ti possa celebrare quei che scendono nella fossa non possano più sperare nella tua fedeltà il vivente il vivente quel che ti loda come fu io quest'oggi il padre farà conoscere i suoi figlioli la tua fedeltà io oh l'Eterno che mi salva e non canteremo cantici al suono degli strumenti a corda tutti i giorni della nostra vita noi lo faremo nella casa dell'Eterno or Isaia aveva detto si prenda una quantità di fichi se ne faccia un impiasso e lo si applichi sull'ulcera ed Ezechia guarirà ed Ezechia avea detto a quel segno riconoscerò io che salirò alla casa dell'Eterno Isaia capitolo trentanovesimo in quel tempo Merodac Baladan figliolo di Baladan re di Babilonia mandò una lettera e un dono ad Ezechia perché aveva udito che egli era stato infermo ed era guarito ed Ezechia se ne rallegrò e mostrò ai messi la casa dove teneva i suoi oggetti di valore l'argento l'oro gli aromi gli oli preziosi tutto il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi tesori non ci fu nulla della casa e di tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro allora il profeta Ezechia venne al re Ezechia e gli disse che hanno detto quegli uomini e donde sono venuti a te Ezechia rispose sono venuti a me da un paese lontano da Babilonia ed Ezechia gli disse che hanno veduto in casa tua ed Ezechia rispose hanno veduto tutto quello che è in casa mia non ve nulla dei mie tesori che io non abbia mostrato loro allora Ezechia disse ad Ezechia ascolta la parola dell'Eterno degli eserciti ecco verranno dei giorni in cui tutto quello che è in casa tua e quello che è dei tuoi padri tutto ciò che hanno accumulato fino a questo giorno sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla dice l'Eterno e vi saranno dei tuoi figlioli usciti da te e da te generati che saranno presi e diventeranno degli ennucchi nel palazzo del re di Babilonia ed Ezechia disse a Isaia la parola dell'Eterno che tu hai pronunziata è buona poi aggiunse perché vi sarà almeno pace e sicurezza durante la mia vita Isaia capitolo quarantesimo consolate consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della sua servitù è compiuto che il debito della sua iniquità è pagato che la ricevuta dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati la voce ed uno grida preparate nel deserto la via dell'Eterno appianate nei luoghi arri di una strada per il nostro Dio ogni valle sia colmata ogni monte ed ogni colle siano abbassati i luoghi erti siano livellati i luoghi scabri diventino pianura allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne e ad ogni tempo la vedrà perché la bocca dell'Eterno l'ha detto una voce dice grida e si risponde che griderò grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo l'erba si secca e il fiore appassisce quando il soffio dell'Eterno vi passa sopra certo il popolo è come l'erba l'erba si secca il fiore appassisce ma la parola del nostro Dio sussiste in Eterno oh tu che recchi la buona novella Sion sali sopra un alto monte oh tu che recchi la buona novella Gerusalemme alza forte la voce alzala non temere di alle città di Giuda ecco il vostro Dio ecco il Signore l'Eterno viene con potenza e col suo braccio e domina ecco la sua mercede con lui e la sua ricompensa lo procede come un pastore egli pascerà il suo gregge raccoglierà gli agnelli in braccio e se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con la spanna chi ha raccolto la polvere della terra in una misura o pesato le montagne con la staderea e di colli con la bilancia chi ha appreso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa chi ha egli consultato perché gli desse istruzione gli insegnasse il sentiero della giustizia gli impartisse la sapienza e gli facesse conoscere la via del discernimento ecco le nazioni sono agli occhi suoi come una gocciola nella secchia come la polvere minuta delle bilance ecco le isole come polviscolo che vola il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto tutte le nazioni sono come nulla dinanzi a lui e il reputa meno che nulla una vanità a chi vorreste voi assomigliare il Dio e con quale immagine lo rappresentereste un artista fonde l'idolo l'orafolo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento colui che la povertà costrinse ad offrir poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muove ma non lo sapete non l'avete sentito non ve' stato annunziato fin dal principio non avete riflettuto dalla fondazione della terra egli è colui che sta assiso sul globo della terra e gli abitanti d'essa sono per lui come locuste egli distese i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi egli riduce i principi a nulla e a nienta i giudici della terra appena piantati appena seminati appena loro fusto appreso radici in terra egli vi soffia contro a quelli seccano e l'uragano li porta via come stoppia a chi dunque mi vorreste assomigliare perché io li sia pari dice il santo levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato tutte queste cose colui che fa uscire fuori e conte il loro esercito che le chiama tutte per nome e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non una manca perché dici tu o Giacobbe e perché parli così o Israele la mia via è occulta l'eterno e al mio diritto non va del mio Dio non lo sai tu non l'hai tu udito l'eterno è l'iddio dell'eternità il creatore degli estremi confini della terra egli non sa fatica e non si stanca la sua intelligenza è imperscrutabile egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spostato i giovani si affaticano e si stancano i giovani scelti vacillano e cadano ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze salsano e a volo come le acule corrono corrono e non si stancano camminano e non si affaticano isaia capitolo quarantunesimo isole fate silenzio dinanzi a me riprendano nuove forze i popoli s'accostino e poi parliamo veniamo assieme in giudizio chi ha suscitato dall'oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi egli dà in balia di lui le nazioni e lo fa dominare sui re egli riduce la loro spada in polvere e il loro arco come pula portata via dal vento egli insegue e passa in trionfo per una via che i suoi piedi non hanno mai calcato chi ha operato chi ha fatto questo colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita io l'eterno che sono il primo e che sarò con gli ultimi sempre lo stesso le isole lo vedono e sono prese da paura le estremità della terra tremano essi si avvicinano arrivano si aiutano a vicenda ognuno dice al suo fratello coraggio il fabbro incoraggia l'orafo il battiloro incoraggia colui che batte l'incudine e dice alla saldatura è buona e fissa l'idolo con dei chiodi perché non si muova ma tu Israele mio servo Giacobbe che io ho scelto progenie d'Abramo l'amico mio tu che ho preso dall'estremità della terra che ho chiamato dalle parti più remoti d'essa e a cui ho detto tu sei il mio servo t'ho scelto e non t'ho reietto tu non temere perché io son teco non ti smarrire perché io sono il tuo Dio io ti fortifico io ti soccorro io ti sostengo con la destra della mia giustizia ecco tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi i tuoi avversari saranno ridotti al nulla e periranno tu li cercherai e non li troverai più quelli che contendevano teco quelli che ti facevano guerra saranno come nulla come cosa che più non è perché io l'Eterno e il tuo Dio sono quelli che ti prendo per la man destra e ti dico non temere io t'aiuto non temere o Giacobbe che sei come un verme o residuo di Israele sono io che t'aiuto dice l'Eterno il tuo Redentore e il Santo di Israele ecco io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi tu trebbierai i monti e li ridurai in polvere e renderai le colline simile alla pula tu li ventilerai e il vento li porterà via e il turbine li disperderà ma tu giubilerai nell'Eterno e ti glorerai nel Santo di Israele i miseri e i poveri cercano acqua e non venè la loro lingua è secca dalla sete io l'Eterno li esaudirò io l'Iddio di Israele non li abbandonerò io farò scaturir dei fiumi sulle nude alture e delle fonti in mezzo alle valli farò del deserto uno stagno d'acqua e della terra arrida una terra di sorgenti pianterò nel deserto il cedro la caccia il mirto e l'albero da olio metterò nei luoghi sterili il cipresso il platano e l'arice tutti assieme affinché quelli veggano sappiano considerino e capiscano tutti quanti che la mano dell'Eterno ha operato questo presentate la vostra causa dice l'Eterno esponete le vostre ragioni dice il re di Giacobbe le espongan essi e ci dichiari in quel che dovrà avvenire le vostre predizioni di prima quali sono diticele perché possiamo porvi mente e riconoscerne il compimento ovvero fateci udire le cose avvenire annunziatici quel che succederà più tardi e sapremo che siete degli dèi sì fate del bene o del male onde noi lo veggiamo e lo consideriamo assieme ecco voi siete niente e l'opera vostra è da nulla è un abominio lo sceglier voi io l'ho suscitato dal settentrione degli viene dall'oriente e degli invoca il mio nome egli calpesta i principi come fango come il vasaio che calca l'argilla chi ha annunziato questo fin dal principio perché lo sapessimo e molto prima perché dicessimo è vero nessuno l'ha annunziato nessuno l'ha predetto e nessuno ha udito i vostri discorsi io per primo ho detto a Sion guardate eccoli e a Gerusalemme ho inviato un messo di buone novelle e guardo e non v'è alcuno non v'è tra loro alcuno che sappia dare un consiglio e che io se l'interrogo possa darmi risposta ecco tutti quanti costoro non sono che vanità le loro opere sono nulla e i loro idoli non sono che vento e cose da niente isaia capitolo quarantaduesimo ecco il mio servo io lo sosterrò il mio eletto in cui si compiace l'anima mia io ho messo il mio spirito su lui gli insegnerò la giustizia alle nazioni egli non griderà non alzerà la voce non la farà udire per le strade non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fiumante insegnerà la giustizia secondo verità egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge così parla l'eterno lì dio che ha creato i cieli e li ha spiegati che ha distesa la terra con tutto quello che essa produce e che dà il respiro al popolo che ve sopra e lo spirito a quelli che vi camminano io l'eterno sto chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano ti costudirò e farò di te alleanza del popolo la luce delle nazioni per aprire gli occhi ai ciechi per strarle dal carcere i prigioni e dalle segrete quelli che giacero nelle tenebre io sono l'eterno tale è il mio nome e io non darò la mia gloria ad un altro nella lode che mi appartiene agli idoli ecco le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove prima che germoglino ve le rendo note cantate all'eterno un cantico nuovo cantate le sue lodi all'estremità della terra e voi che scendete sul mare ed anche gli esseri che esso contiene le isole e i loro abitanti il deserto e le sue città levino la voce levin la voce i villaggi occupati da Kedar esultino gli abitanti di Sela diano in gridi di gioia dalle vette dei monti diano gloria all'eterno proclamino la sua lode nelle isole l'eterno s'avanzerà come un eroe e citerà il suo ardore come un guerriero manderà un grido un grido tremendo trionferà dei suoi nemici per lungo tempo mi son tasciuto me ne sono stato cheto mi son trattenuto ora griderò come donna che è sopraparto respirerò affannosamente e sbufferò ad un tempo io devasterò montagne e colline ne farò seccare tutte le erbe riderò i fiumi in isole asciugherò gli stagni farò camminare i ciechi per una via che ignorano li menerò per sentieri che non conoscono muterò dinanzi a loro le tenebre in luce renderò piani luoghi scabri sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò e volgeranno le spalle coperti d'onta quelli che confidano negli idoli scolpiti e dicono alle immagini fuse voi siete i nostri dei ascoltate o sordi e voi ciechi guardate e vedete chi è cieco se non il mio servo è sordo come il messo che io invio chi è cieco come colui che mi è amico cieco come il servo dell'eterno tu hai visto molte cose ma non hai posto mente gli occhi erano aperti ma non hai visto nulla l'eterno si è compiaciuto per amore della sua giustizia di renderla sua legge grande magnifica ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato sono tutti legati in caverne rinchiusi nelle segrete sono abbandonati al saccheggio e non vè chi dica restituisci chi di voi presterà orecchio a questo chi starà attento e ascolterà in avvenire chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni non è egli stato l'eterno colui contro il quale abbiamo peccato e nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è obbedito perciò egli ha riversato su Israele l'ardore della sua ira e la violenza della guerra e la guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed ei non ha capito l'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore Isaia capitolo quarantatreesimo ma ora così parla l'eterno il tuo creatore o Giacobbe colui che t'ha formato o Israele non temere perché io t'ho riscattato t'ho chiamato per nome tu sei mio quando passerai per delle acque io sarò teco quando traverserai dei fiumi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso e la fiamma non ti consumerà poiché io sono l'eterno il tuo Dio il santo di Israele il tuo salvatore io ho dato l'Egitto come tuo riscatto l'Etiopia e Seba invece tua perché tu sei prezioso agli occhi mei perché sei pregiato ed io amo io do degli uomini invece tua e dei popoli in cambio della tua vita non temere perché io son teco io ricondurrò la tua progenie dal Levante e ti raccoglierò dal Ponente dirò al settentrione da e al mezzogiorno non ritenere fa venire i miei figliuoli da lontano e le mie figliuole dall'estremità della terra tutti quelli cioè che portano il mio nome e che io ho creati per la mia gloria e che ho formati e che ho fatti fa uscire il popolo cieco che ha degli occhi e i sordi che hanno degli orecchi s'adunino tutti assieme le nazioni si riuniscano i popoli chi fra loro può annunziare queste cose e farci udire delle predizioni antiche producano i loro testimoni e stabiliscano il loro diritto affinché dopo averli uditi si dica è vero i miei testimoni siete voi dice l'eterno voi e il mio servo che ho scelto affinché voi lo sappiate mi crediate e riconoscete che sono io prima di me nessun dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno io io sono l'eterno e fuori di me non v'è salvatore io ho annunziato salvato predetto e non è stato un dio straniero che fosse tra voi e voi me ne siete testimoni dice l'eterno io sono il dio lo sono da che fu il giorno e nessuno può liberare dalla mia mano io opererò chi potrà impedire l'opera mia così parla l'eterno il vostro redentore il santo di israele per amor vostro ho mandato il nemico contro babilonia volgerò tutti in fuga i caldei scenderanno sulle navi di cui sonsi fieri io sono l'eterno il vostro santo il creatore di israele il vostro re così parla l'eterno che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti che fece uscire carri e cavalieri un esercito di prodi guerrieri e tutti quanti furono atterrati né più si alzarono furono estinti spenti come un lucignolo non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare non la riconoscerete voi? sì io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella solitudine le bestie dei campi gli sciacalli gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato dell'acqua al deserto dei fiumi alla solitudine per dar da bere al mio popolo al mio eletto il popolo che mi son formato pubblicherà le mie lodi e tu che non mai invocato o Giacobbe anzi ti sei stancato di me o Israele tu non mai portato l'agnello dei tuoi locasti e non mai onorato coi tuoi sacrifici io non ti ho tormentato col chiederti offerte né t'ho stancato col domandarti incenso tu non mai comprato con denaro della canna moderosa e non mai saziato col grasso dei tuoi sacrifici ma tu mai tormentato coi tuoi peccati mai stancato con le tue iniquità io io sono quelli che per amor di me stesso cancellerò le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati risveglia la mia memoria discutiamo assieme parla tu stesso per giustificarti il tuo primo padre ha peccato i tuoi interpreti si sono ribellati a me perciò io ho trattato come profani i capi del santuario ho votato Giacobbe allo sterminio ho abbandonato Israele all'opproprio Isaia capitolo quarantaquattresimo ed ora ascolta o Giacobbe mio servo o Israele che io t'ho scelto così parla l'Eterno che t'ha fatto che t'ha formato fin dal seno materno colui che ti soccorre non temere o Giacobbe mio servo o Geshurum ch'io ho scelto poiché io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arida spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi rampolli ed essi germoglieranno come in mezzo all'erba come salci in riva a correnti d'acque l'uno dirà io sono dell'eterno l'altro si chiamerà del nome di Giacobbe e un altro scriverà sulla sua mano dell'eterno e si onorerà di portare il nome di Israele così parla l'eterno il re di Israele e suo redentore l'eterno degli eserciti io sono il primo e sono l'ultimo e fuori di me non veddio chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico che lo dichiari e me lo provi lo annunziano essi l'avvenire e quel che avverrà non vi spaventate non temete non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo voi me ne siete testimoni ve egli un dio fuori di me non ve altra rocca io non ne conosco alcuna quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità e i loro idoli più cari non giovano a nulla i loro propri testimoni non vedano non capiscano nulla perché essi siano coperti d'onta chi è che fabbrica un dio o fonde un'immagine perché non gli serva a nulla ecco tutti quelli che vi lavorano saranno confusi e gli artefici stessi non sono che uomini si radunino tutti si presentino saranno spaventati e coperti d'onta tutti assieme il fabbro lima il ferro lo mette nel fuoco forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso soffre perfino la fame e la forza li viene meno non beve acqua si spossa il falegname stende la sua corda disegna l'idolo con la matita lo lavora con lo scalpello lo misura col compasso ne fa una figura umana una bella forma d'uomo perché abiti in una casa si tagliano dei cedri si prendono dei delci delle querci si fa la scelta fra gli alberi della foresta si piantano dei pini che la pioggia fa crescere poi tutto questo serve all'uomo per far del fuoco ed e ne prende per riscaldarsi ne accende anche il forno per cuocere il pane e ne fa pure un dio e l'adora e ne scolpisce un'immagine dinanzi alla quale si prostra ne brucia la metà nel fuoco con l'altra metà allestisce la carne ne cuoce l'arrosto e si sazia e anche si scalda e dice ah mi riscaldo e godo di vedere questa fiamma e con l'avanzo si fa un dio il suo idolo gli si prostra davanti l'adora lo prega e gli dice salvami poiché tu sei il mio dio non sanno nulla non capiscono nulla hanno impiastrato i loro occhi perché non veggano il loro cuore perché non comprendano nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire ne ho bruciata la metà nel fuoco sui suoi carboni ho fatto cuocere il pane vuoi arrostito la carne che ho mangiata e farò col resto un'abominazione e mi prostrerò davanti a un pezzo di legno un tal uomo si pasce di scendere il suo cuore sedotto lo travia sì che ei non può liberare l'anima sua e dire questo che tengo nella mia destra non è una menzogna ricordati di queste cose o Giacobbe o Israele perché tu sei mio servo io t'ho formato tu sei il mio servo Israele tu non sarai da me dimenticato io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola torna a me perché io t'ho riscattato cantate o cieli poiché l'Eterno ha operato giubilate o profondità della terra date in grida di gioia o montagne o foreste con tutti gli alberi vostri poiché l'Eterno ha riscattato Giacobbe e manifestata la sua gloria in Israele così parla l'Eterno il tuo Redentore colui che t'ha formato fin dal seno materno io sono l'Eterno che ha fatto tutte le cose io solo ho spiegato i cieli ho distesa la terra senza che vi fosse alcun meco io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini io faccio indietreggiare i savi e muto la loro scienza in follia io confermo la parola del mio servo e mando ad effetto le predizioni dei miei messaggeri io dico di Gerusalemme essa sarà abitata e delle città di Giuda saranno riedificate ed io ne rialzerò le rovine io dico all'abisso fate asciutto io prosciugherò i tuoi fiumi io dico di Ciro egli è il mio pastore egli adempirà la mia volontà dicendo a Gerusalemme sarai costruita e al Tempio sarai fondato Isaia capitolo quarantacinquesimo così parla l'Eterno al suo unto a Ciro che io ho preso per la destra per atterrare dinanzi a lui le nazioni per sciogliere le cinture ai fianchi del re per aprire davanti a lui le porte sì che niuna gli resti chiusa io camminerò dinanzi a te e appianerò i luoghi scabrosi frantumerò le porte di rame e spezzerò le sbarre di ferro ti darò i tesori occulti nelle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti affinché tu riconosca che io sono l'Eterno che ti chiama per nome l'Iddio di Israele per amor di Giacobbe mio servo ed Israele mio eletto io ti ho chiamato per nome ti ho designato con special favore quando non mi conoscevi io sono l'Eterno e non ve alcun altro fuori di me non ve altro Dio io ti ho cinto quando non mi conoscevi perché dal Levante e dal Ponente si riconosca che non ve altro Dio fuori di me io sono l'Eterno e non ve alcun altro io formo la luce creo le tenebre do il benessere creo l'avversità io l'Eterno sono quelli che fa tutte queste cose cieli stillate dall'alto e faccia alle nuvole piovere la giustizia s'apra la terra e sia ferace di salvezza e faccia germogliare la giustizia al tempo stesso io l'Eterno creo tutto questo guai a colui che contende col suo creatore egli rottame fra i rottami di vasi di terra l'argilla dirà essa a colui che la forma che fai o l'opera tua dirà essa ehi non ha mani guai a colui che dice a suo padre perché generi e a sua madre perché partorisci così parla l'Eterno il Santo di Israele colui che t'ha formato voi mi interrogate circa le cose a venire ma date degli ordini circa i miei figlioli e circa l'opera delle mie mani ma io io sono quelli che ho fatto la terra e che ho creato l'uomo sovressa io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando a tutto l'esercito loro io ho suscitato Ciro nella mia giustizia e appianerò tutte le sue vie egli riedificherà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni dice l'Eterno degli eserciti così parla l'Eterno il frutto delle fatiche dell'Egitto e del traffico dell'Etiopia e dei Sabei della grande statura passeranno a te e saranno tuoi quei popoli cammineranno dietro a te passeranno incatenati si prosteranno dinanzi a te e tu supplicheranno dicendo certo il Dio è in te e non v'è in alcun altro no non v'è altro Dio in verità tu sei un Dio che ti nascondi o Dio di Israele o Salvatore saranno svergognati sì tutti quanti confusi se non andranno tutti assieme coperti d'onda i fabbricatori d'idoli ma Israele sarà salvato dall'eterno d'una salvezza eterna voi non sarete svergognati né confusi mai più in eterno poiché così parla l'eterno che ha creato i cieli l'iddio che ha formato la terra l'ha fatta l'ha stabilita non l'ha creata perché rimanesse deserta ma l'ha formata perché fosse abitata io sono l'eterno e non ve alcun altro io non ho parlato in segreto in qualche luogo tenebroso della terra io non ho detto alla progenie di Giacobbe cercami in vano io l'eterno parlo con giustizia dichiaro le cose che sono rette adunatevi venite accostatevi tutti assieme voi che siete scampati dalle nazioni non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare annunziatelo fateli appressare prendano pure consiglio assieme chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e la predette da lungo tempo non son forse io l'eterno e non ve altro Dio fuori di me un Dio giusto e non ve salvatore fuori di me volgeteli a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra poiché io sono il Dio e non ve alcun altro per me stesso io l'ho giurato è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata ogni ginocchio si piegherà davanti a me ogni lingua mi presterà giuramento solo nell'eterno si dirà di me e la giustizia è la forza a lui verranno pieni di confusione tutti quelli che erano accessi dirà contro di lui nell'eterno sarà giustificata e si glorirà tutta la progenie di Israele Isaia capitolo quarantaseiesimo bel crolla nebo cade le loro statue sono messe sopra animali su bestie da soma quest'idoli che voi portavate qua e là sono divenuti un carico un peso per la bestia stanca sono caduti sono crollati assieme non possano salvare il carico ed essi stessi se ne vanno in cattività ascoltate mio casa di Giacobbe e voi tutti residuo della casa di Israele voi di cui mi son caricato dal dì che nasceste che siete stati portati fin dal seno materno fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso fino alle vostre canizie io vi porterò io vi ho fatti ed io vi sosterrò sì vi porterò e vi salverò a chi mi somigliereste e a chi mi ugualiereste a chi mi paragonereste quasi fossimo pari costoro profondano l'oro nella loro borsa pesano l'argento nella bilancia pagano un orefici perché ne faccia un Dio per prostrarglisi dinanzi per adorarlo se lo caricano sulle spalle lo portano lo mettono al suo posto ed esso sta in piede e non si muove dal suo posto e benché uno gridi a lui esso non risponde e lo salva e lo salva dalla sua distretta ricordatevi di questo e mostratevi uomini oh trasgressori rientrate in voi stessi ricordate il passato le cose antiche perché io son Dio e non ve alcun altro son Dio e niente e niente è simile a me che annunzio la fin sin dal principio e molto tempo prima predico le cose che ancora non sono avvenute che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà che chiamo dal Levante un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno sì io l'ho detto e lo farò avvenire ne ho formato il disegno e l'eseguirò ascoltatemi oh gente dal cuore ostinato che siete lontani dalla giustizia io faccio avvicinare la mia giustizia essa non è lungi e la mia salvezza non tarderà io porrò la salvezza in Sion e la mia gloria sopra Israele Isaia capitolo quarantasettesimo scendi e siedi sulla polvere oh vergine figliuola di Babilonia siediti in terra senza trono oh figliuola dei caldei perché non ti si chiamerà più la delicata la voluttosa metti mano alle macine e macina farina levati il velo alzati lo strasico scopriti la gamba e passa i fiumi si scopra la tua nudità si vegga la tua onta io farò vendetta e non risparmierò anima viva il nostro Redentore a nome l'eterno degli eserciti il Santo di Israele siediti in silenzio e va nelle tenebre oh figliuola dei caldei perché non sarai più chiamata la Signora dei regni io mi corrucciai contro il mio popolo profanai la mia eredità e li diedi in mano tua tu non avesti per essa alcuna pietà e facesti gravar duramente il tuo gioco sul vecchio e dicesti io sarò Signora in perpetuo tal che non prendesti a cuore e non ricordasti la fine di tutto questo or dunque ascolta questo o voluttuosa che te ne stai assisa in sicurtà e dici in cuor tuo io e nessun altro che io io non rimarò mai vedova e non saprò che sia l'essere orbata di figlioli ma queste due cose t'avverranno in un attimo in uno stesso giorno privazioni di figlioli e vedovanza ti piomberanno addosso tutti assieme nonostante la moltitudine dei tuoi sortilegi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi tu ti fidavi della tua malizia tu dicevi nessuno mi vede la tua saviezza e la tua scienza t'hanno sedotta e tu dicevi in cuor tuo io e nessun altro che io ma un male verrà sopra te che non saprai come scongiurare una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanar con alcuna espiazione e ti cadrà repentinamente addosso una rovina che non avrai preveduta statene or là coi tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza forse potrai trarne profitto forse riuscirai ad incutere terrore tu sei stanca di tutte le tue consultazioni si levino dunque quelli che misurano il cielo che osservano le stelle che fanno pronostici ad ogni novilunio e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso ecco essi sono come stoppia il fuoco li consuma non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma non rimarrà braccia a cui scaldarsi né fuoco di nasi al quale sedersi tale sarà la sorte di quelli intorno a cui ti sei affaticata quelli che han trafficato teco fin dalla tua giovinezza andranno errando ognuno dal suo lato e non vi sarà alcuno che ti salvi Isaia capitolo quarantottesimo ascoltate questo o casa di Giacobbe voi che siete chiamati del nome di Israele che siete usciti dalla sorgente di Giuda voi che giurate per il nome dell'Eterno e menzionate lì Dio di Israele ma senza sincerità senza rettitudine poiché prendono il loro nome dalla città santa e si appoggiano sull'I Dio di Israele che ha nome l'Eterno degli eserciti già anticamente io annunciei le cose precedenti e se uscirono dalla mia bocca io le feci sapere a un tratto io le effettuai ed esse avvennero siccome io sapevo Israele che tu sei ostinato che il tuo collo ha muscoli di ferro e che la tua fronte è di rame io t'annunziai queste cose anticamente te le feci sapere prima che avvenissero perché tu non avessi a dire le ha fatte il mio idolo le ha ordinate la mia immagine scolpita la mia immagine fusa tu ne hai udito l'annunzio mira le avvenute tutte quante non lo proclamerete voi stessi ora io t'annunzio delle cose nuove delle cose occulte a te ignote esse stanno per prodursi adesso non da tempo antico e prima d'oggi non ne avevi udito parlare perché te non abbia a dire ecco io le sapevo no tu ne hai udito nulla non ne hai saputo nulla nulla in passato te mai hai veduto agli orecchi perché sapevo che ti saresti condotto perfidamente e che ti chiami ribelle fin dal seno materno per amore del mio nome io differirò la mia ira e per amore della mia gloria io mi raffreno per non sterminarti ecco io t'ho voluto affinare ma senza ottenere argento t'ho provato nel grogiuolo dell'afflizione per amor di me stesso per amore di me stesso io voglio agire poiché come lascerei io profanare il mio nome e la mia gloria io non la darò ad un altro ascolta mio Giacobbe e tu Israele che io ho chiamato io son colui che è io sono il primo e son pure l'ultimo la mia mano ha fondato la terra la mia destra ha spiegato i cieli quando io li chiamo si presentano assieme adunatevi tutti quanti ed ascoltate chi tra di voi ha annunziato queste cose colui che l'Eterno ama eseguirà il suo volere contro Babilonia e leverà il suo braccio contro i caldei io io ho parlato io l'ho chiamato io l'ho fatto uscire e la sua impresa riuscirà avvicinatevi a me ascoltate questo fin dal principio io non ho parlato in segreto quando questi fatti avvenivano io ero presente ed ora il Signore l'Eterno mi manda col suo spirito così parla l'Eterno il tuo Redentore il Santo di Israele io sono l'Eterno il tuo Dio che ti insegna per il tuo bene che ti guida per la via che devi seguire oh fossi tu pur attento ai miei comandamenti la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare la tua posterità sarebbe come l'arena e il frutto delle tue viscere come la sabbia che è nel mare il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto dinnanzi al mio cospetto uscite da Babilonia fuggitevene lungi dai caldei con voce di giubilo annunziatelo banditelo datene voce fino all'estremità della terra dite l'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe ed essi non hanno avuto sete quando l'ha condotti attraverso i deserti egli ha fatto scaturire per essi dell'acqua dalla roccia ha fenduto la roccia e ne è colata l'acqua non ve pace per gli empi dice l'Eterno Isaia capitolo quarantanovesimo Isole ascoltatemi popoli lontani state attenti l'Eterno m'ha chiamato fin dal seno materno m'ha mentovato il mio nome fin dalle viscere di mia madre egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente ma nascosto nell'ombra della sua mano ha fatto di me una freccia a guzza ma riposto nel suo turcasso e m'ha detto tu sei il mio servo Israele nel quale io manifesterò la mia gloria ma io dicevo in vano faticato inutilmente per nulla ha consumato la mia forza ma certo il mio diritto è presso l'Eterno e la mia ricompensa è presso all'Idio mio ed ora parla l'Eterno che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo per ricondurli Giacobbe e per accogliere intorno a lui Israele ed io sono onorato agli occhi dell'Eterno e il mio Dio è la mia forza egli dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele voglio far di te la luce delle nazioni lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra così parla l'Eterno il Redentore il Santo di Israele a colui che è disprezzato dagli uomini detestato dalle nazioni schiavo dei potenti dei re lo vedranno e si leveranno dei principi eppure si prostreranno a motivo dell'Eterno che è fedele del Santo di Israele che l'ha scelto così parla l'Eterno nel tempo della grazia io ti esaudirò nel giorno della salvezza ti aiuterò ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese per rimetterli in possesso dell'eredità devastate per dire ai prigioni uscite e a quelli che sono nelle tenebre mostratevi essi passeranno lungo le vie e troveranno il loro pascolo su tutte le alture non avranno fame né sete né miraggio né sole li colpirà più poiché colui che ha pietà di loro li guiderà e li metterà alle sorgenti dell'acqua io muterò tutte le mie montagne in vie e le mie strade saranno riattate guardate questi vengono di lontano ecco quest'altro vengano da settentrione ed occidente e questi dal paese dei sinim giubilate o cieli e tu terra festeggia date in gridi di gioia o monti poiché l'eterno console il suo popolo ed ha pietà dei suoi afflitti massion ha detto l'eterno ma abbandonata il signore ma dimenticata una donna dimentica ella il bambino che allatta cessando di aver pietà del frutto delle sue viscere quando anche le madri dimenticassero non ti dimenticherò te ecco io t'ho colpita sulle palme delle mie mani per la tua mura mi stando e continuo davanti agli occhi i tuoi figlioli accorrono i tuoi distruttori i tuoi devastatori si allontanano da te volgi lo sguardo all'intorno e mira e sì tutti si radunano e vengono a te com'è vero che io vivo dice l'eterno tu ti rivestirai d'essi come d'un ornamento tu te ne cingerai come una sposa nelle tue ruine nei tuoi luoghi desolati nel tuo paese distrutto sarai ora troppo allo stretto per i tuoi abitanti e quelli che ti divoreranno si allontaneranno da te i figlioli di cui foste orba ti diranno ancora all'orecchio questo posto è troppo stretto per me fammi largo perché io possa stanziarmi e tu dirai in cuor tuo questi chi me li ha generati già che io ero orbata dei miei figlioli sterile esule e scacciata questi chi li ha allevati ecco io ero rimasta sola questi dov'erano così parla il Signore l'Eterno ecco io leverò la mia mano verso le nazioni alzerò la mia bandiera verso i popoli ed essi ti ricondurranno i tuoi figlioli in braccio e ti riporteranno le tue figliole sulle spalle dei re saranno i tuoi bali e le loro regine saranno tue balie essi si prostreranno dinanzi a te con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi e tu riconoscerai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno confusi si strapperà egli il bottino al potente e i giusti fatti i prigionieri saranno essi liberati sì così dice l'Eterno anche i prigioni del potente saranno portati via e il bottino del tiranno sarà ripreso io combatterò con chi combatte teco e salverò i tuoi figlioli e farò mangiare ai tuoi oppressori la loro propria carne e si inebrieranno con loro proprio sangue come col mosto ed ogni carne riconoscerà che io l'Eterno sono il tuo salvatore il tuo redentore il potente di Giacobbe Isaia capitolo cinquantesimo così parla l'Eterno dov'è la lettera di divorzio di vostra madre per la quale io l'ho ripudiata o qual'è quello dei miei creditori al quale io v'ho venduto ecco per le vostre iniquità siete stati venduti e per le vostre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata perché quando io sono venuto non si è trovato alcuno perché quando io ho chiamato nessuno ha risposto la mia mano ed è la davvero troppo accorta per redimere o non ho io forza da liberare ecco con la mia minaccia io prosciugo il mare riconduco i fiumi in deserto il loro pesce diventa fedito per mancanza d'acqua e muore di sete io rivesto i cieli di nero e do loro il cilicio per coperta il Signore l'Eterno mi ha dato una lingua esercitata per chi io sappia sostenere con la parola lo stanco egli risveglia ogni mattina risveglia il mio orecchio per chi io ascolti come fanno i discepoli il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio ed io non sono stato ribelle e non mi son tratto indietro io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guanci a chi mi strappava la barba io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi ma il Signore l'Eterno mi ha soccorso perciò non sono stato confuso perciò ho reso la mia faccia simile ad un macigno e so che non sarò svergognato vicino è colui che mi giustifica chi contenderà meco compariamo assieme chi è il mio avversario mi venga vicino ecco il Signore l'Eterno mi verrà in aiuto chi è colui che mi condannerà ecco tutti costoro diventeranno logori come un vestito la tignola li roderà chi è tra voi che tema l'Eterno che ascolti la voce del servo di lui benché cammini nelle tenebre privo di luce confidi nel nome dell'Eterno e s'appoggi sul suddio ecco voi tutti che accendete un fuoco che vi cingete di tizioni andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizioni che avete accesi questo avrete dalla mia mano voi giacerete nel dolore Isaia capitolo cinquantunesimo ascoltatemi voi che procacciate la giustizia che cercate l'Eterno considerate la roccia onde foste tagliati e la buca della cava onde foste cavati considerate Abrahamo vostro padre e Sara che vi partorì poiché io lo chiamai e quando egli era solo lo benedissi e lo moltiplicai così l'Eterno sta per consolare Sion consolerà tutte le sue rovine renderà il deserto di lei pari a un Eden e la sua solitudine pari a un giardino dell'Eterno gioia ed allegrezza si troveranno in mezzo a lei inni di lode e melodia di canti prestami attenzione o popolo mio porgimi orecchio o mia nazione poiché la legge procederà da me ed io porrò il mio diritto come luce dei popoli la mia giustizia è vicina la mia salvezza sta per apparire e le mie braccia giudicheranno i popoli le isole spereranno in me e confideranno nel mio braccio alzate gli occhi vostri al cielo e abbassateli sulla terra poiché i cieli si dilegueranno come fumo la terra invecchierà come un vestito e i suoi abitanti perimente morranno ma la mia salvezza durerà in eterno e la mia giustizia non verrà mai meno ascoltatemi o voi che conoscete la giustizia o popolo che nel cuore ha la mia legge non temetelo proprio degli uomini ne siate sgomenti per i loro oltraggi poiché la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana ma la mia giustizia rimarrà in eterno la mia salvezza per ogni età risvegliati risvegliati rivestiti di forza o braccio dell'eterno risvegliati come nei giorni andati come nelle antichetà non sei tu che facesti a pezzi Rehab che trafiggesti il dragone non sei tu che prosciugasti il mare le acque del grande abisso che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti e i riscattati dell'eterno torneranno verranno con canti di gioia a Sion e nell'allegrezza eterna coronerà il loro capo attornato di Letizia dall'egrezia il dolore e il gemito fuggiranno io io sono colui che vi consola chi sei tu che tu tema l'uomo che deve morire e il figliuolo dell'uomo che passerà come l'erba che tu dimentichi l'eterno che t'ha fatto che ha disteso i cieli e fondata la terra che tu tremi continuamente tutto il giorno dinanzi al furore dell'oppressore quando s'appressa a distruggere e dove è dunque il furore dell'oppressore colui che è curvo nei ceppi sarà bentosto liberato non morrà nella fossa e non gli mancherà il pane poiché io sono l'eterno il tuo dio che solleva il mare e ne fa muggire le onde il cui nome è l'eterno degli eserciti ed io ho messo le mie parole nella tua bocca e t'ho coperto con l'ombra della mia mano per piantare dei cieli e fondare una terra e per dire a Sion tu sei il mio popolo risvegliati risvegliati levati o Gerusalemme che hai bevuto dalla mano dell'eterno la coppa del suo furore che hai bevuto il calice la coppa di stordimento e l'hai succhiata fino in fondo fra tutti i figlioli che la partorite non ve' alcuno che la guidi fra tutti i figlioli che la ha levati non ve' alcuno che la prenda per mano queste due cote si sono avvenute chi ti compiangerà desolazione e rovina fame e spada chi ti consolerà i tuoi figlioli venivano meno giacevano a tutti i capi delle strade come un antilope nella rete prostrati dal furore dell'eterno dalle minacce del tuo dio perciò ascolta per questo o infelice ed ebbra ma non divino così parla il tuo signore l'eterno il tuo dio che difende la causa del suo popolo ecco io ti tolgo di mano la coppa di stordimento il calice la coppa del mio furore tu non la berrai più io la metterò in mano dei tuoi persecutori che dicevano all'anima tua chinati che ti passiamo addosso e tu facevi del tuo dosso un suolo una strada per i passanti Isaia capitolo cinquantaduesimo risvegliati risvegliati rivestiti della tua forza o Sion mettiti le tue più splendide vesti o Gerusalemme città santa poiché da ora innanzi non entreranno più in te né in circonciso né in puro scuotiti di dosso la polvere levati mettiti a sedere o Gerusalemme sciogliti le catene dal collo o figliuola di Sion che sei in cattività poiché così parla l'eterno voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro poiché così parla il Signore l'eterno il mio popolo discese già in Egitto per dimorarvi poi l'assiro l'oppresse e senza motivo ed ora che faccio io qui dice l'eterno quando il mio popolo è stato portato via per nulla quelli che lo dominano mandano urli dice l'eterno è il mio nome del continuo tutto il giorno schernito perciò il mio popolo conoscerà il mio nome perciò saprà in quel giorno che sono io che ho parlato eccomi quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annuncia la pace che è araldo di notizie liete che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna odi le tue sentinelle esse levano la voce e mandano tutti assieme gridi di gioia poiché esse veggon coi loro propri occhi l'eterno che ritorna a Sion date assieme in gridi di giubilo o ruine di Gerusalemme poiché l'eterno consola il suo popolo redime Gerusalemme l'eterno ha mandato il suo braccio santo gli occhi di tutte le nazioni e tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio dipartitevi dipartitevi uscite di là non toccate nulla di impuro uscite di mezzo a lei purificatevi voi che portate i vasi dell'eterno poiché voi non partirete in fretta e non ve ne andrete come chi fugge giacché l'eterno camminerà dinanzi a voi e l'eddio di Israele sarà la vostra retroguardia ecco il mio servo prospererà sarà elevato esaltato reso sommamente eccelso come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti tanto era disfatto il suo sembiante sì da non parer più un uomo e il suo aspetto sì da non parer più un figlio al duomo così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione i re chiuderanno la bocca dinanzi a lui poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato e apprenderanno quello che non avevano udito isaia capitolo cinquantatresimo chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio dell'eterno egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo come una radice che esce da un arido suolo non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore familiare col patire pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna e non di meno erano le nostre malattie che gli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputavamo colpito battuto da Dio ed umiliato ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti maltrattato umiliò se stesso e non ha perse la bocca come l'agnello menato alla scanatoio come la pecora muta dinnanzi acchilatosa e gli non ha perso la bocca dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi riflettè che gli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo gli avevan assegnata la sepoltura fra gli empi ma nella sua morte gli è stato col ricco perché non aveva commesso violenze né verrà stata frode nella sua bocca ma piacque all'eterno di fiaccarlo con patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrifici per la colpa egli vedrà una progenie prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'eterno prospererà nelle sue mani egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti per chi ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori isaia capitolo cinquanta quattresimo giubila o sterile tu che non partorivi dai in gridi di gioia ed esulta tu che non provavi doglie di parto poiché i figliuoli della dereritta saranno più numerosi dei figliuoli di colei che ha marito dice l'eterno allarga il luogo della tua tenda e si spieghino le tele delle tue dimore senza risparmio allunga i tuoi cordami rafforza i tuoi pioli poiché tu ti spanderai a destra ed a sinistra la tua progenie possederà le nazioni e popolerà le città deserte non temere poiché tu non sarai più confusa non aver vergogna che non avrai più da arrossire ma dimenticherai l'onta della tua giovinezza e non ricorderai più lo proprio della tua vedovanza poiché il tuo creatore è il tuo sposo il suo nome è l'eterno degli eserciti è il tuo redentore è il santo di israele che sarà chiamatoli dio di tutta la terra poiché l'eterno non ti richiama come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata dice il tuo dio per un breve istante io t'ho abbandonata ma con immensa compassione io ti raccoglierò in un accesso d'ira io t'ho per un momento nascosta la mia faccia ma con un amore eterno io avrò pietà di te dice l'eterno il tuo redentore avverrà per me come delle acque di noè poiché come giurai che le acque di noè non si spanderebbero più sopra la terra così giuro di non più irritarmi contro di te e di non minacciarti più quant'anche i monti s'allontanassero e i colli fossero rimossi l'amor mio non s'allantonerà da te nel mio patto di pace sarà rimosso dice l'eterno che ha pietà di te o afflitta sbattuta dalla tempesta sconsolata ecco io incasserò le tue pietre dell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri farò i tuoi merli di rubini e le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose tutti i tuoi figlioli saranno discepoli dell'eterno e grande sarà la pace dei tuoi figlioli tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia sarai lungi dall'oppressione che non avrai niente da temere e dalla ruina che non si accosterà a te ecco potranno far delle leghe ma senza di me chiunque fa la lega contro di te cadrà dinanzi a te ecco io ho creato il fabbro che soffia nel fuoco sui carboni e ne trae uno strumento per il suo lavoro io pure ho creato il devastatore per distruggere nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà ed ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te tu la condannerai tale l'eredità dei servi dell'eterno e la giusta ricompensa che verrà loro da me dice l'eterno Isaia capitolo cinquantacinquesimo o voi tutti che siete assetati venite alle acque e voi che non avete denaro venite e comprate mangiate venite comprate senza denaro senza pagare vino e latte perché spendere denaro per ciò che non è pane è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra godrà di cibi succulenti inclinate l'orecchio e venite a me ascoltate e l'anima vostra vivrà io fermerò con voi un patto eterno vi largirò le grazie e stabilite promesse a Davide ecco io ho dato come testimonio ai popoli come principe governatori dei popoli ecco tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo dell'eterno del tuo dio del santo di israele perché ei ti avrà glorificato cercate l'eterno mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'eterno che avrà pietà di lui e al nostro dio che è largo nel perdonare poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri nelle vostre vie sono le mie vie dice l'eterno come i cieli sono alti al di sopra della terra così sulle mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri e come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiata la terra senza averla fecondata e fatta cermogliare sì da dar seme al seminatore e pane da mangiare così è della mia parola uscita dalla mia bocca essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui io l'ho mandata sì voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace i monti e i colli daranno ingridi di gioia dinanzi a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani nel luogo del pruno se leverà il cipresso nel luogo del rovo crescerà il mirto e sarà per l'eterno un titolo di gloria un monumento perpetuo che non sarà distrutto Isaia capitolo cinquantaseesimo così parla l'eterno rispettate il diritto e fate ciò che è giusto poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata beato l'uomo che fa così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo che trattiene la mano dal far qualsiasi male lo straniero che si è unito all'eterno non dica certo l'eterno mi escluderà dal suo popolo ne dica l'enucco ecco io sono un albero secco poiché così parla l'eterno circa gli enucchi che osserveranno i miei sabati che sceglieranno ciò che a me piace e si atterreranno al mio patto io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di figli e di figlie darò loro un nome eterno che non perirà più e anche gli stranieri che si sono uniti all'eterno per servirlo per amare il nome dell'eterno per essere suoi servi tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò della mia casa d'orazione i loro causti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli il signore l'eterno che raccoglie gli esoli di israele dice io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri oltre a quelli che dei suoi che sono già raccolti o voi tutte bestie dei campi venite a mangiare venite o voi tutte bestie della foresta i guardiani di israele sono tutti ciechi senza intelligenza sono tutti dei cani muti incapaci da abbaiare sognano stanno sdraiati amano sonnecchiare sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli sono dei pastori che non capiscano nulla sono tutti volti alla loro propria via ognuno mira il proprio interesse dal primo all'ultimo venite dicono io andrò a cercare del vino e cinebriremo di bevande forti e il giorno di domani sarà come questo anzi sarà più grandioso ancora Isaia capitolo cinquanta settesimo il giusto muore e nessuno vi ponmente gli uomini pi sono tolti via e nessuno considera che il giusto è tolto via per sottrarlo ai mali che vengono egli entra nella pace quelli che han camminato per la dritta via riposano sui loro letti ma voi avvicinatevi qua o figliuoli dell'incantatrice e progenie dell'adultore e della prostituta alle spalle di chi vi divertite verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua non siete voi figliuoli della ribellione progeni della menzogna voi che vi infiammate fra i terebinti sotto ogni albero verdeggiante che scannate i figliuoli nelle valli sotto le grotte delle rocce la tua parte è fra le pietre lisce del torrente quelle sono la sorte che ti è toccata a quelle tu hai fatto libazioni e hai prestato blazioni posso io tollerare in pace coteste cose tu poni il tuo letto sopra un monte alto elevato e qui vi pure sale ad offrire sacrifici hai messo il tuo memoriale dietro le porte e dietro gli stipidi poiché lungi da me tu scuopri il tuo letto vi monti la larghi e fermi il patto con loro tu ami il loro letto e in esso ti scegli un posto tu vai dal re con dell'olio e gli recchi dei profumi in quantità mandi lontano i tuoi ambasciatori e si abbassi fino al soggiorno dei morti per il tuo lungo cammino ti stanchi ma non dici è inutile tu trovi ancora del vigore nella tua mano e perciò non ti senti esausta chi dunque paventi di chi hai paura per innegarmi così per non più ricordarti di me per non dartene più pensiero non me ne sono io rimasto in silenzio e da gran tempo per questo tu non mi temi più io proclamerò la tua rettitudine e le tue opere che non gioveranno a nulla quando tu griderai venga a salvarti la folla dei tuoi idoli il vento li porterà via tutti un soffio li torrà via ma chi si rifugia in me possederà il paese ed erediterà il mio monte santo e si dirà acconciate acconciate preparate la via togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo poiché così parla colui che è alto l'eccelso che abita l'eternità e che ha nome il santo io dimoro nel luogo alto e santo ma son colui che è contrito ed umile di spirito per avvivire lo spirito degli umili per avvivire il cuore dei contriti poiché io non voglio contendere in perpetuo né serbare l'ira in eterno affinché gli spiriti le anime che io ho fatte non vengano meno dinanzi a me per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito mi sono nascosto mi sono indignato ed egli ribelle ha seguito la via del suo cuore io ho veduto le sue vie e lo guarirò lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti io creo la lode che esce dalla mia labbra pace pace a colui che è lontano a colui che è vicino dice l'eterno io lo guarirò ma gli empi sono come il mare citato quando non si può calmare le sue acque cacciano fuori fango e pantano non ve pace per gli empi dice il mio dio Isaia capitolo cinquantotesimo grida a piena gola non ti rattenere alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati mi cercano ogni giorno prendo un piacere a conoscerle mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonata la legge del suo dio mi domandano dei giudizi giusti prendo un piacere ad accostarsi a dio perché dicono essi quando abbiamo digiunato non ci hai avuto riguardo perché quando abbiamo afflitte le nostre anime non vai tu posto mente ecco nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori ed ecco voi digiunate per litigare per questionare e per quotere ampiamente col pugno oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto è questo il digiuno di cui io mi compiaccio il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua curvar la testa come un giunco sdraiarsi sul sacco e sulla cenere è egli questo che tu chiami un digiuno un giorno accetto all'eterno il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo che si spezzino le catene della malvagità che si scioggano i legami dei giuogo che si lasciano liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giuogo non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame che tu meni a casa tua infelici senza asilo che quando vedo un ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente e la tua giustizia ti procederà e la gloria dell'eterno sarà la tua retroguardia allora chiamerai e l'eterno ti risponderà griderai ed egli dirà eccomi se tu togli di mezzo a te il gioco il gesto minaccioso ed il parlare iniquo se l'anima tua supplice ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì l'eterno ti guiderà del continuo sazierà l'anima tua nei luoghi arridi darà vigore alle tue ossa e tu sarai come un giardino ben annaffiato come una sorgente la cui acqua non manca mai i tuoi riedificheranno le antiche rovine tu rialzerai le fondamente gettate da molta età e sarai chiamato il riparatore delle brecce il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese se tu trattieni il pie per non violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno se chiami il sabato una delizia venerabile ciò che è sacro all'eterno e se onori quel giorno anziché seguir le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause allora troverai la tua delizia nell'eterno io ti farò passare in cocchio sulle alture del paese ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre poiché la bocca dell'eterno ha parlato isaia capitolo cinquantanovesimo ecco la mano dell'eterno non è troppa corta per salvare nel suo orecchio troppo duro per udire ma son le vostre iniquità quelle che han posto una barriera fra voi e il vostro dio sono i vostri peccati quelli che han fatto sì che gli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto poiché le vostre mani sono contaminate dal sangue e le vostre dita dalle iniquità le vostre labbra proferiscono menzogna la vostra lingua sussurra perversità nessuno muove causa con giustizia nessuno la discute con verità si appoggiano su quelli che non è dicono menzogne concepiscono il male partoriscono l'iniquità covano uova di basilisco tessano tele di ragno chi mangia delle loro uova muore e l'uovo che uno schiaccia da fuori una vipera le loro tele non diventeranno vesti né costoro si copriranno delle loro opere le loro opere sono opere di iniquità e nelle loro mani vi sono atti di violenza i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere sangue innocente i loro pensieri sono pensieri di iniquità la desolazione e la rovina sono sulla loro strada la via della pace non la conoscono e non v'è equità nel loro procedere si fanno dei sentieri tortuosi chiunque vi cammina non conosce la pace perciò la sentenza liberatrice è lungi da loro e non arriva fino a noi la giustizia noi aspettiamo la luce ed ecco le tenebre aspettiamo il chiarore del dì e camminiamo nel buio andiamo tastando da parete come i ciechi andiamo a testoni come chi non ha occhi inciampiamo in pie mezzogiorno come nel crepuscolo in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti tutti quanti mughiamo come orsi andiamo gemendo come colombe aspettando la sentenza liberatrice ed essa non viene la salvezza ed essa s'allontana da noi poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate dinanzi a te e i nostri peccati testimoniano contro di noi sì le nostre trasgressioni si sono presenti e le nostre iniquità le riconosciamo siamo stati ribelli all'eterno e l'abbiamo rinnegato ci siamo ritratti dal seguire il nostro dio abbiamo parlato d'oppressione di rivolta abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna e la sentenza liberatrice si è ritirata e la salvezza si è tenuta lontana poiché la verità soccombe sulla piazza pubblica e la rettitudine non può avervi accesso la verità è scomparsa e chi si ritrae dal male si espone all'essere spogliato e l'eterno l'ha veduto egli è dispiaciuto e non vi sia più rettitudine ha veduto che non v'è più un uomo e si è stupito che niuno si interponesse allora il suo braccio egli è venuto in aiuto e la sua giustizia l'ha sostenuto e il si è rivestito di giustizia come d'una corrazza si è messo in capo l'elmo della salvezza ha indossato gli abiti della vendetta si è avvolto di gelosia come in un manto egli renderà ciascuno secondo le sue opere il furore ai suoi avversari e il contraccambio ai suoi nemici e alle isole darà la loro retribuzione così si temerà il nome dell'eterno dall'occidente e la sua gloria dall'oriente quando l'avversario verrà come una fiumana lo spirito dell'eterno lo metterà in fuga ed un redentore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta dice l'eterno quanto a me dice l'eterno questo è il mio patto che io fermerò con loro il mio spirito che riposa su te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si dipartiranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie né dalla bocca della progenie della tua progenie dice l'eterno da ora in perpetuo Isaia capitolo sessantesimo sorgi risplendi poiché la tua luce è giunta la gloria dell'eterno si è levata su te poiché ecco le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli ma su te si leva l'eterno e la sua gloria appare su te le nazioni cammineranno alla tua luce e il re allo splendore del tuo levare alza gli occhi tuoi e guardati attorno tutti s'adunano e vengono a te i tuoi figlioli giungono di lontano arrivano le tue figliole portate in braccio allora guarderai e sarai raggiante il tuo cuore palpiterà forte e s'allargerà poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso te la ricchezza delle nazioni verrà a te stuoli di cammelli ti copriranno dromedari di madian e defa quelli di sceba verranno tutti portando oro ed incenso e proclamando le lodi dell'eterno tutti i greggi di chedars adoneranno presso di te e i montoni di nebaiot saranno al tuo servizio saliranno sul mio altare come offerta gradita ed io farò risplendere la gloria della mia casa gloriosa chi mai son costoro che volan come una nuvola come colombi verso il loro colombario son le isole che sperano in te e avranno alla loro testa le navi di tarsis per ricondurre i tuoi figlioli di lontano con loro argento e con loro oro per onorare il nome dell'eterno del tuo dio del santo di israele che t'avrà glorificata i figlioli dello straniero ricostruiranno le tue mura e i loro re saranno al tuo servizio perché io t'ho colpita nel mio sdegno ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te le tue porte saranno sempre aperte non saranno chiuse né giorno né notte per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e i loro re in corteggio perché la nazione e il regno che non ti serviranno periranno e quelle nazioni saranno interamente distrutte la gloria del libano verrà a te il cipresso il platano il larice verranno assieme per onorare il luogo del mio santuario ed io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi e i figlioli di quelli che t'avranno oppressa verranno a te abbassandosi e tutti quelli che t'avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei loro piedi e ti chiameranno la città dell'Eterno la Sion del Santo d'Israele invece d'essere abbandonata odiata sì che anima viva più non passava per te io farò di te l'orgoglio dei secoli la gioia di tutte le età tu popperai il latte delle nazioni popperai il senno dei re e riconoscerai che io l'Eterno sono il tuo Salvatore io il potente di Giacobbe sono il tuo Redentore invece del rame farò venire dell'oro invece del ferro farò venire dell'argento invece del legno del rame invece di pietra e ferro io ti darò del Magistero la pace per governare la giustizia non sudrà più parlare di violenza nel tuo paese di devastazione di ruina entro i tuoi confini ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà col suo chiarore ma l'Eterno sarà la tua luce perpetua e il tuo Dio sarà la tua gloria il tuo sole non tramonterà più e la tua luna non scenderà più poiché l'Eterno sarà la tua luce perpetua e i giorni del tuo lutto saranno finiti il tuo popolo sarà tutto quanto un popolo di giusti essi possederanno il paese in perpetuo essi che sono il rampollo da me piantato l'opera delle mie mani da servire alla mia gloria il mio piccolo diverà un migliaio e il minimo una nazione potente io l'Eterno affretterò le cose a suo tempo Isaia capitolo sessantunesimo lo spirito del Signore dell'Eterno è su me perché l'Eterno maunto per recare una buona novella agli umili ma inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che fanno cordoglio per mettere per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere l'olio della gioia in luogo di duolo il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto onde possano esser chiamati terrebinti di giustizia la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria ed essi riedificheranno le antiche ruine rialzeranno i luoghi desolati nel passato rinnoveranno le città devastate i luoghi desolati delle trascorse generazioni ed gli stranieri staranno qui vi appascere i vostri greggi i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri vignaioli ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno e la gente vi dirà ministri del nostro Dio voi mangerete le ricchezze delle nazioni e a voi toccherà la loro gloria invece della vostra onta avrete una parte doppia invece proprio giubilerete della vostra sorte sì nel loro paese possederanno il doppio ed avranno un'alleanza eterna poiché io l'Eterno amo la giustizia odo la rapina frutto di iniquità io darò loro fedelmente la loro ricompensa e fermerò con loro un patto eterno e la loro razza sarà nota fra le nazioni e la loro progenie fra i popoli tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dall'Eterno io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno l'anima mia festeggerà nel mio Dio poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza ma avvolto nel manto della giustizia come uno sposo che s'adorna ad un diadema come una sposa che si para dei suoi gioielli sì come la terra dà fuori la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze così il Signore l'Eterno farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di tutte le nazioni Isaia capitolo sessantaduesimo per amore di Sion io non mi tacerò e per amore di Gerusalemme io non mi darò posa finché la sua giustizia non apparisca come l'aurora e la sua salvezza come una luce ardente allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tu tirè la tua gloria e sarà chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno fisserà e sarai una splendida corona in mano dell'Eterno un diadema regale nella palma del tuo Dio non ti si dirà più abbandonata la tua terra non sarà più detta desolazione ma tu sarai chiamata alla mia delizia e in lei la tua terra maritata poiché l'Eterno riporrà in te il suo diletto e la tua terra avrà uno sposo come un giovane sposo una vergine così i tuoi figlioli sposeranno te e come la sposa è la gioia dello sposo così tu sarai la gioia del tuo Dio sulle tue mura o Gerusalemme io ho posto delle sentinelle che non si lasceranno mai né giorno né notte o voi che destate il ricordo dell'Eterno non abbiate requie e non date requie a lui finché egli non abbia ristabilita Gerusalemme e n'abbia fattolo la lode di tutta la terra l'Eterno ha giurato per la sua destra e per il suo braccio potente io non darò mai più il tuo frumento per cibo ai tuoi nemici e i figli dello straniero non berranno più il tuo vino frutto delle tue fatiche ma quelli che avranno raccolto il frumento lo mangeranno e lo deranno l'Eterno e quelli che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario passate passate per le porte preparate la via per il popolo acconciate acconciate la strada togliete nelle pietre alzate una bandiera dinanzi ai popoli ecco l'Eterno proclama fin dagli estremi confini della terra diti alla figliuola di Sion ecco la tua salvezza giunge ecco egli a sé ecco il tuo salario e la sua ritribuzione lo precede quelli saranno chiamati il popolo santo i redenti dell'Eterno e tu sarai chiamata ricercata la città non abbandonata Isaia capitolo sessanta treesimo chi è questi che giunge da Edon da Bothra in vestimenti splendidi questi magnificamente ammantato che cammina fiero nella grandezza della sua forza sono io che parlo con giustizia che sono potenti a salvare perché questo rosso nel tuo manto e perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nello strettoio io sono stato solo a calcar l'uva nello strettoio e nessun uomo fra i popoli è stato meco io li ho calcati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiati tutti i miei abiti poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti io guardai ma non vera chi mi aiutasse mi volsi attorno stupito ma nessuno mi sosteneva allora il mio braccio mi ha salvato e il mio furore mi ha sostenuto e ho calpestato dei popoli nella mia ira li ho ubriacati nel mio furore e ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra io voglio ricordare le benignità dell'eterno le lodi dell'eterno considerando tutto quello che l'eterno ci ha allargito ricorderò la bontà di cui è stato largo verso la casa di israele secondo le sue compassioni e secondo l'abbondanza delle sue grazie egli avea detto certo essi sono il mio popolo figliuoli che non mi inganneranno e fu il loro salvatore in tutte le loro distrette egli stesso fu indistretta e l'angelo della sua faccia li salvò nel suo amore e nella sua longaminità e li redense e li tolse in spalla e sempre li portò nei tempi adatti ma essi furono ribelli contristarono il suo spirito santo onde egli si convertì in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè dov'è colui che li trasse fuori dal mare col pastore del suo gregge dov'è colui che metteva in mezzo a loro lo spirito suo santo e che faceva andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè che divise le acque dinanzi a loro per acquistarsi una rinomanza eterna che li menò attraverso gli abissi come un cavallo nel deserto senza che inciampassero come il bestiame che scende nella valle lo spirito dell'eterno li condusse al riposo così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa guarda il cielo e mira dalla tua dimora santa e gloriosa dove sono il tuo zelo e i tuoi atti potenti il fremito delle tue viscere e le tue compassioni non si fan più sentire verso di me non di meno tu sei nostro padre poiché abrahamo non sa chi siamo e israele non ci riconosce tu o eterno sei nostro padre il tuo nome in ogni tempo è il redentore nostro o eterno perché ci fai errare lungi dalle tue vie e induri il nostro cuore perché non ti tema ritorna per amor dei tuoi servi dalle tribù della tua eredità per ben poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati come quelli che non portano il tuo nome Isaia capitolo sessantaquattresimo oh squarciassi tu pure i cieli e scendessi dinanzi a te sarebbero scossi i monti come un fuoco accende i rami secchi come il fuoco fa bollir l'acqua tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e le nazioni tremerebbero dinanzi a te quando facesti delle cose tremende che noi non aspettavamo tu discendesti e i monti furono scossi dinanzi a te mai si era inteso mai orecchio aveva sentito dire mai occhio aveva veduto che un altro dio fuori di te agisse a pro di quelli che spera in lui tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te ma tutti si è dirato contro di noi perché abbiamo peccato e ciò ha durato da tanto tempo saremmo noi salvati tutti quanti siamo diventati come un uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito lordato tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portan via come il vento non v'è più alcuno che invochi il tuo nome che si risvegli per attenersi a te poiché tu c'è nascosta la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità non di meno o eterno tu sei nostro padre noi siamo l'argilla tu colui che ci formi e noi siamo tutti l'opera delle tue mani non t'adirare fino all'estremo o eterno e non ti ricordare dell'iniquità in perpetuo ecco guarda te impreghiamo noi siamo tutti il tuo popolo le tue città sante sono un deserto Sion è un deserto Gerusalemme una desolazione la nostra casa santa e magnifica dove i nostri padri ti celebrarono è stata preda alle fiamme e tutto quel che avevamo di più caro è stato devastato dinanzi a queste cose ti conterrai tuo eterno tacerai tu e ci affliggerai fino all'estremo Isaia capitolo sessantacinquesimo io sono stato cercato da quelli che prima non chiedevano di me sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano ho detto eccomi eccomi a una nazione che non portava il mio nome ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri verso un popolo che del continuo mi provoca sfacciatamente ad ira che offre sacrifici nei giardini e fa fumare profumi sui mattoni che sta fra i sepolcri e passa le notti nelle caverne che mangia carne di porco ed ha nei suoi vasi vivande impure che dice fatti in là non t'accostare perché io sono più santo di te cose si fatte sono per me un fumo nel naso un fuoco che arde da mano a sera ecco tutto ciò sta scritto dinanzi a me io non mi tacerò anzi vi darò la retribuzione sì vi verserò in seno la retribuzione delle iniquità vostre dice l'Eterno e al tempo stesso delle iniquità dei vostri padri che hanno fatto fumare profumi sui monti e mi hanno oltraggiato sui colli io misurerò loro in seno il salario della loro condotta passata così parla l'Eterno come quando si trova del succo nel grappolo si dice non lo distruggere perché lì vè una benedizione così farò io per amore dei miei servi e non distruggerò tutto io farò uscire da Giacobbe una progenie e da Giuda un'erede dei miei monti e i miei eletti possederanno il paese e i miei servi v'abiteranno Saron sarà chiama chiuso di greggi e la valle di Acor un luogo di riposo alle mandrie per il mio popolo che m'avrà cercato ma voi che abbandonate l'Eterno che dimenticate il monte mio santo che apparecchiate la mensa aggade e lempite la coppa di vin profumato a meni io vi destino alla spada e vi chinerete tutti per essere scannati poiché io ho chiamato e voi non avete risposto ho parlato e voi non avete dato ascolto ma avete fatto ciò che è male agli occhi miei e avete preferito ciò che mi dispiace perciò così parla il Signore l'Eterno ecco i miei servi mangeranno ma voi avrete fame ecco i miei servi berranno ma voi avrete sete ecco i miei servi gioiranno ma voi sarete confusi ecco i miei servi canteranno per la gioia del loro cuore ma voi griderete per l'angoscia del cuor vostro e urlerete perché avrete lo spirito affranto e lascerete il vostro nome come un'imprecazione fra i miei letti così il Signore l'Eterno faccia morire te ma egli darà ai suoi servi un altro nome in guisa che Isan augurerà ad essere benedetto dal paese lo farà per l'iddio di verità e colui che giurerà nel paese giurerà per l'iddio di verità perché le afflizioni di prima saranno dimenticate e saranno nascoste agli occhi miei poiché ecco io creo dei nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima esse non torneranno più in memoria rallegratevi si festeggiate in perpetuo per quanto io sto per creare poiché ecco io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia ed io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo qui vi non si udranno più voci di pianto né gridi di angoscia ma non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni né vecchio che non compia il numero dei suoi anni chi morrà a cent'anni morrà giovane e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a cent'anni essi costruiranno case e le abiteranno pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto non costruiranno più perché un altro abiti non pianteranno più perché un altro mangi poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei letti godranno a lungo dell'opera delle loro mani non si affaticheranno in vano e non avranno più figliuoli per vederli morire ad un tratto poiché saranno la progeni dei benedetti dell'eterno e i loro rampolli staranno con essi avverrà che prima che mi invochino io risponderò parleranno ancora e già li avrò esauditi il lupo e l'agnello pasceranno assieme il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere non si farà più danno né guasto su tutto il mio monte santo dice l'eterno Isaia capitolo sessantaseiesimo così parla l'eterno il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi qual casa mi potreste voi edificare e qual potrebbe essere il luogo del mio riposo tutte queste cose ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza dice l'eterno ecco su chi io poserò lo sguardo su colui che è umile e che ha lo spirito contrito e trema la mia parola chi immola un bue è come se uccidesse un uomo chi sacrifica un agnello è come se accoppasse un cane chi presenta un'oblazione come se offrisse sangue di porco chi fa un profumo di incenso come se benedicesse un idolo come costoro hanno scelto per loro proprie vie e l'anima loro prende piacere nelle loro abominazioni così sceglierò io la loro sventura e farò piombare loro addosso quel che paventano poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto ho parlato ed essi non hanno dato ascolto ma han fatto ciò che è male agli occhi miei e han preferito ciò che mi dispiace ascoltate la parola dell'eterno voi che tremate alla sua parola i vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a motivo del mio nome dicono si mostri l'eterno nella sua gloria onde possi ammirare la vostra gioia ma essi saranno confusi uno strepito esce dalla città un clamore viene dal tempio è la voce dell'eterno che dà la retribuzione ai suoi nemici prima di provare le doglie del parto ella ha partorito prima che le venissero i dolori ha dato alla luce un maschio chi ha udito mai cosa si fatta chi ha mai veduto alcunché di simile un paese nasce egli in un giorno una nazione viene essa alla luce in una volta ma Sion non appena ha sentito le doglie ha subito partorito i suoi figli io che preparo la nascita non farei partorire dice l'eterno io che fo partorire chiuderei il seno materno dice il tuo Dio rallegratevi con Gerusalemme e festeggiate a motivo di lei o voi tutti che l'amate giubilate grandemente con lei o voi tutti che siete in lutto per essa onde siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni onde beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria poiché così parla l'eterno ecco io dirigerò la pace verso di lei come un fiume e la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa e voi sarete allattati sarete portati in braccio carezzati sulle ginocchia come un uomo cui sua madre consola così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme voi lo vedrete il vostro cuore si rallegrerà e le vostre ossa come l'erba riprenderanno vigore la mano dell'eterno si farà conoscere a pro dei suoi servi e la sua indegnazione contro i suoi nemici poiché ecco l'eterno verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira con furore per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco poiché l'eterno eserciterà il suo giudizio col fuoco e con la sua spada contro ogni carne e gli uccisi dell'eterno saranno molti quelli che si santificano e che si purificano per andare nei giardini dietro all'idolo che è qui in mezzo quelli che mangiano carne di porco cose esecrande e dei topi saranno tutti quanti consumati dice l'eterno lo conosco io le opere e i loro pensieri il tempo è giunto per accogliere tutte le nazioni e tutte le lingue ed esse vedranno e vedranno la mia gloria ed io metterò un segnale fra loro e manderò degli scampati di fra loro alle nazioni a Tarsis a Pul a Lud che tirano l'arco a Tubal a Javan alle isole lontane che non hanno mai udito la mia fama e non hanno mai veduto la mia gloria ed essi proclameranno la mia gloria fra le nazioni e ricondurranno tutti i vostri fratelli di fra le nazioni come un'offerta all'eterno su cavalli su carri su lettighe su muli su dromedari al monte mio santo a Gerusalemme dice l'eterno nel modo che i figliuoli di Israele portano le loro offerte in un vaso puro alla casa dell'eterno e di tra loro ne prenderò pure per sacerdoti e per le viti dice l'eterno poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare e sussisteranno stabili dinanzi a me dice l'eterno così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome e avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi dinanzi a me dice l'eterno e quando gli adoratori usciranno o vedranno i cadavri degli uomini che si sono ribellati a me poiché il loro verme non morrà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore ad ogni carne